Buongiorno a tutti e ben ritrovati, ci fa molto piacere vedervi fisicamente e come dire questo significa che siamo abbastanza usciti dalla pandemia di due anni, magari stiamo entrando in un'altra, ma questo fa parte dei tempi presenti. Sono particolarmente contenta, come associazione siamo particolarmente contenti di essere anche quest'anno presenti al convegno delle stelline e di declinare così a modo nostro, cioè a modo degli argomenti che si confanno al settore biomedico quello che è l'argomento core del convegno, cioè le tre leve delle biblioteche innovazione, comunità e prossimità. Noi stiamo portando avanti come associazione un percorso di formazione rivolto ai colleghi che lavorano nelle biblioteche e questo workshop ci dà il modo di fare il punto su uno degli strumenti che servono in questo percorso di formazione che sono i software citazionali e altri strumenti correlati. I software citazionali non rappresentano un'innovazione per chi ha qualche anno di più come me, io li conosco fin dagli anni, dei primi anni 90, quindi quasi prima del web, venivano usati come strumento che si intersecava con i software di Word Processor per appunto aiutare i ricercatori nella scrittura del manoscritto e nel mentre si scrive citare le, usare le citazioni e poi generare automaticamente la bibliografia e soprattutto quella cosa magica che faceva impressione all'epoca di trasformarla in uno stile citazionale è diverso a seconda della rivista a cui veniva sottomesso, quindi queste non sono una novità, esistevano già nell'era DOS per chi l'ha vissuta. Quello che è una novità, invece un'innovazione diciamo, è il loro uso e come intendiamo presentarli noi in questo workshop e cioè nel loro, intendiamo presentarli che negli anni sono diventati molto di più, hanno aumentato moltissimo le loro potenzialità e adesso, quindi noi oltre a una presentazione, una descrizione delle caratteristiche e delle differenze alcuni di essi presenteremo il loro uso oltre le citazioni e questo è effettivamente uno strumento innovativo che permette a chi lavora nelle biblioteche biomediche di essere di supporto, di essere a fianco, di essere un utilissimo e preziosissimo ausilio alla comunità di riferimento che per i bibliotecari possono essere gli studenti, i ricercatori, i clinici e quindi in questo modo diciamo la comunità. La prossimità è nel senso che credo che anche le esperienze che presenteremo in questa sede sono un esempio di come essere a fianco dei ricercatori e quindi aiutarli nel percorso di lavoro. Non andremo poi nel dettaglio di come possiamo usarli per supportare il loro percorso, il loro profilo ORCID per esempio e o nel realizzare le visioni bibliografiche, rassegne sistematiche della letteratura. Quindi declineremo in breve questi passaggi con tre esperti che sono due bibliotecari e una ricercatrice che sta per arrivare con la quale abbiamo già fatto un corso di formazione sulle revisioni sistematiche anche con la professoressa Giannola e il professor Moia. E quindi niente, quello che io così per concludere volevo precisare è che come associazione ci teniamo a sottolineare quello che può essere il valore aggiunto che un professionista dell'informazione biomedica come sono i bibliotecari documentalisti, può dare nel flusso di lavoro e biblioteca e può dare come supporto ai ricercatori, ai clinici, agli studenti e poi direttamente anche ai pazienti. Detto questo passo direttamente al primo relatore che è Simone Cocchi. Simone è una conoscenza di un po' di tempo e con una formazione umanistica con però un background che poneva le basi per interessi futuri, alcuni coltivati anche insieme. ha una formazione, ha un background in sociolinguistica, quindi un'attenzione alla comprensione del linguaggio medico. E da qui sono nati i suoi interessi in health literacy, in patient education e in comunicazione della malattia. Anche tu sei passato attraverso un percorso nelle biblioteche pubbliche, vero, iniziale, collaborazione. No, ho esordito nella biblioteca pazienti. Ah, ho esordito nella biblioteca pazienti, mi ricordo, sì. Però pensavo ci fosse una collaborazione con la Panizzi, no. Per le attività di biblioteca pazienti, sì. Ah, ecco, ricordo bene. E ci siamo conosciuti nell'ambito appunto della collaborazione con la biblioteca dell'Arcispedale che poi è diventato IRCS di Reggio Emilia, in cui adesso si occupa di più di gestione delle pubblicazioni scientifiche, valutazione della ricerca e quindi tutti gli argomenti correlati alla bibliometria, all'uso intensivo della bibliometria negli IRCS. Qui parlerà appunto di... ci presenterà questi software di reference management nelle loro caratteristiche, nelle loro differenze. Prego, Simone. Grazie, Ivana. Per prima cosa volevo davvero ringraziare tutto il direttivo del GDIF perché mi ha dato l'opportunità di ritornare a vedere persone dal vivo e è una cosa che davvero sono emozionato perché dopo così tanto tempo non mi sembrava vero. Quindi sono davvero molto 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 contento di essere qua con voi. A me tocca la parte introduttiva, diciamo, dell'argomento di oggi. Metà l'ha già fatta Ivana, quindi potrei alzarmi e andare. No, adesso a parte sto scherzando ovviamente. Facciamo questa chiacchierata appunto introduttiva per vedere un po' quali sono, di cosa parliamo quando parliamo di questi strumenti che qua abbiamo chiamato reference management software. Quali sono quelli disponibili per l'utenza e per i professionisti e un po' quali sono le loro caratteristiche, in cosa si differenziano un po' gli uni dagli altri. Ne vedremo un po' rapidamente in realtà tre in particolare. e quali sono un po' i motivi per cui vale davvero davvero la pena di usarli. Se non vi dispiace comincerei così un po' per rompere il ghiaccio chiedendovi se li conoscete, se li usate, se li conoscete ma non li usate, se li consigliate all'utenza. Vedo teste che annuiscono, quindi direi che meno male sapete già di cosa stiamo parlando. Quindi molto probabilmente vi dirò delle cose che conoscete già. Ma così era un po' l'occasione appunto per fare, per instaurare un terreno comune di conoscenze in vista anche poi delle relazioni che seguiranno. Allora, cosa sono appunto questi strumenti? Sono di fatto degli, di solito sono conosciuti con queste espressioni inglesi, no? Reference management software, bibliographic software, in italiano programmi per la gestione di bibliografie, delle referenze bibliografiche e così via. Sono di fatto dei programmi e delle applicazioni che ci permettono di importare, di esportare, di organizzare e poi anche di utilizzare materialmente dei documenti di varia natura che noi possiamo appunto andare a gestire grazie alla gestione dei loro metadati da parte di questi strumenti. Quando parliamo di metadati, ovviamente parliamo di, lo dice la parola stessa, di dati che parlano di altri dati, dati che ci forniscono informazioni su altri dati e altre entità. L'esempio un po' canonico che si fa come metadato antelittera, no? È la classica scheda catalografica di un libro. Il libro è il dato, il libro è l'entità. I campi che noi troviamo sulla scheda, classicamente autore, titolo, anno di edizione e così via, sono i metadati che ci descrivono il contenuto dell'entità che stiamo maneggiando. Ovviamente i metadati hanno acquisito un'importanza sempre maggiore con lo sviluppo dell'elettronica e con lo sviluppo della scienza dell'informazione e quindi i metadati a maggior ragione ci interessano nel momento in cui si configurano come quello screenshot che vedete lì sulla destra, come ad esempio un record di una banca dati, in questo caso in formato Medline. Anche qui i campi sono gli stessi più o meno che potremmo trovare su una scheda catalografica cartacea, ma ovviamente la gestione poi dal punto di vista elettronico di questi dati ci permette tutta una serie di funzionalità che sono davvero molto sviluppate e molto sviluppabili. I metadati sono un po' ovunque, nel senso che li troviamo nei file PDF, tanto per dire, sono incorporati spesso all'interno dei file. Anche l'utente medio quando utilizza un file PDF, in questo caso ad esempio il PDF di un articolo scientifico utilizza il suo testo, ma noi sappiamo che dietro ci sono altre funzionalità che possono essere sfruttate anche da questi strumenti di cui parliamo oggi. I metadati non sono solo nei documenti cartacei o simil cartacei, sono anche nelle immagini ad esempio. Questi sono i metadati incorporati in questa immagine formato JPEG. Qua non avremo l'autore, il titolo eccetera, ma abbiamo altre informazioni sulla nostra entità immagine, quindi dalla risoluzione alla macchina fotografica che è stata utilizzata per scattare la foto, il tempo di esposizione e così via. Allora, questi strumenti appunto, quindi reference management software, importano, estrapolano, organizzano i metadati di documenti che poi vanno a costituire le nostre librerie o collezioni, a seconda di come le vogliamo chiamare. Gestendo questi metadati, cosa possono fare questi strumenti? Possono creare delle bibliografie personali di documenti di nostro interesse personale, di studio, di ricerca, o quello che vogliamo. Crearle ed organizzarle anche, vedremo poi principalmente magari con l'uso di cartelle, di tag e così via. Ci permettono anche di importare direttamente riferimenti bibliografici, non solo, a volte interi documenti, dalle banche dati, da cataloghi online, da siti web, eccetera. Ci permettono anche di fare pulizia all'interno delle nostre collezioni, nel senso che riescono a riconoscere elementi duplicati, duplicati, triplicati, quadruplicati e così via, e ci permettono appunto di eliminare il superfluo, di mantenere organizzata e pulita appunto la nostra collezione. Come accennava poi Ivana prima, la loro prima funzione, in realtà, è stata quella di permettere l'inserimento di referenze bibliografiche e bibliografie all'interno di testi, e non solo di inserirle, ma di gestirle dall'inizio alla fine, il che vuol dire anche poter scegliere lo stile citazionale più adeguato e poterlo modificare nel caso di bisogno. Fanno tutto questo lavorando sia online che offline, quindi in locale su uno o più device. E questo è possibile attraverso una funzione di sincronizzazione che ci permettono di lavorare su più device, sulle stesse collezioni e librerie, avendo il nostro patrimonio sempre allineato correttamente. ecco, la cosa molto interessante anche di questi strumenti è che mediamente sono degli strumenti di tipo collaborativo, cioè ci permettono di lavorare a distanza con altre persone, di creare dei gruppi che possono essere privati, ma anche pubblici, di condividere bibliografie, di avere progetti di ricerca comuni, eccetera, eccetera. Hanno delle funzioni di fatto che li fanno assomigliare un po' a delle specie di social network, no? Ovviamente qua rivolti all'ambito accademico di ricerca, mentre sappiamo bene che l'uso dei social network principale è condividere foto di gattini e fake news, qua di solito non vengono gestite in questo modo. Allora, quali sono questi strumenti? Ne esistono davvero moltissimi. Ivana già prima anticipava che sono un po' esplosi nelle loro... c'è stata un po' un'esplosione nella produzione di questi strumenti. Questo è uno screenshot preso da Wikipedia, dove si vede una tabella con un elenco che probabilmente sarebbe anche da aggiornare. In realtà comunque potete vedere che ce ne sono davvero tanti, con, insomma, diverse caratteristiche. Oggi noi vedremo un po' quelli che sono un po' più conosciuti, un po' più diffusi, che sono principalmente tre, sono E-Note, Mendeley e Zotero. Partiamo con E-Note. Allora, E-Note è un prodotto commerciale di Cradivite Analytics ora, quindi parliamo di quell'ecosistema di risorse che sicuramente conoscete, quindi Web of Science, Insight, Journalization Report e così via. E' un prodotto commerciale, dicevamo, però devo dire che sulla loro homepage hanno un messaggio che è promozionale, chiamiamolo così, efficace e devo dire anche veritiero. Cosa ci dice? Ci dice che E-Note ci permette di accelerare la nostra ricerca, di risparmiare tempo, di rimanere organizzati, di collaborare con i colleghi e di pubblicare. Ed è effettivamente tutto vero. Queste sono principalmente le cose che questi strumenti ci permettono di fare, in modi davvero funzionali. E-Note ha una parte web e una parte installabile in locale. vi faccio notare che esiste adesso uno strumento che con molta fantasia hanno chiamato E-Note Click, che non è la versione online di E-Note, ma è quello che fino a qualche mese fa si chiamava Copernio, e che è uno strumento completamente diverso, che serve per recuperare i full text delle pubblicazioni, sostanzialmente. Lo dico perché a volte alcuni nostri utenti dicono, ho scaricato E-Note Click, ma non riesco a inserire le referenze, perché è uno strumento, a parte che non si scarica, ma nel senso è una cosa completamente diversa. Vediamo un po' così rapidamente, non sono tutti ovviamente, quali sono un po' i punti a favore e a sfavore di questo strumento. Allora, tra i vantaggi di E-Note, bisogna ammettere che è uno strumento molto potente, oggettivamente, e riesce a gestire delle librerie davvero corpose e non si fa intimidire da librerie di decine di migliaia di documenti. È dotato di molti filtri di importazione predefiniti, il che fa sì che lavori molto bene nelle importazioni da diversi tipi di fonti, da diverse banche dati, da diversi altri sistemi, ha un sistema di importazione davvero funzionale. Ha delle impostazioni molto personalizzabili, il che è un lato positivo per chi riesce ad avere una familiarità abbastanza piena con lo strumento, può un po' intimidire, diciamo così, l'utente medio agli inizi del suo rapporto con questo sistema. Però, insomma, è oggettivamente una caratteristica di E-Note importante che è questa. E poi, ho messo qui, ma in realtà questa è una cosa comune a tutti gli strumenti, ci permette di gestire molti stili citazionali diversi. Tra gli svantaggi di E-Note, il primo e più grande, secondo me, è il fatto che è uno strumento a pagamento e le licenze, insomma, costano. Io, riconoscimento dei duplicati, quindi quella funzionalità che ci permette di mantenere un po' in ordine la nostra libreria su E-Note, a mio parere, è meno... Allora, vi parlo dell'ultima versione di E-Note che ho potuto consultare, che non è la 20, cioè che non è l'ultimissima, quella che avete visto prima, però... Sì, esatto. Però, diciamo, appunto, in questa versione, magari nella 20 è migliorata, ma su questo non posso dirvi nulla, il riconoscimento dei duplicati è effettivamente un po' macchinoso, nel senso che avviene sempre con un confronto uno a uno. Un documento confrontato con un altro, se il documento è triplicato bisogna confrontare il secondo con il terzo, poi il terzo con il quarto, e così via. È prudente. È molto prudente, sì. È molto prudente. Che non è detto necessariamente che sia un male, però, devo dire che quando si lavora, appunto, dato che è stato pensato, no, anche per essere gestore, comunque gestore di migliaia, decine di migliaia di referenze, può essere un po' complicato farlo in questo modo. Un'altra nota negativa, dal mio punto di vista, è che non è compatibile con Linux, quindi non è del tutto multipiattaforma, funziona solo su Windows, e parliamo ovviamente non della versione web, che è Windows e Mac, sì. Parliamo della versione desktop. La versione online di EndNote non mi sento di consigliarvela, perché ha davvero pochissime funzionalità ed esistono delle alternative molto, molto migliori, secondo me. Un altro prodotto molto famoso è Mendeley, in questo caso parliamo di un prodotto di Elsevier, quindi sempre di un inter-profit, diciamo così, ma in questo caso parliamo di un prodotto gratuito. Anche Mendeley ha una versione web e una versione desktop. In realtà le versioni desktop in questo momento di Mendeley sono due, perché la versione storica a Mendeley Desktop è stata, e adesso è stata affiancata, cioè da qualche mese, da un altro prodotto che si chiama Mendeley Reference Manager, e che, da quanto capito, andrà a soppiantare definitivamente la versione desktop classica. Abbiamo visto, che abbiamo già detto, insomma, che è un sistema gratuito, in questo caso parliamo anche di un sistema multipiattaforma, perché Mendeley funziona sia su Mac, che su Windows, che su Linux. Uno dei vantaggi più grandi di Mendeley è che è un ottimo, davvero ottimo, gestore di file PDF. è ottimizzato particolarmente per questa funzione e ci permette di fare annotazioni, che sono anche ricercate, ci permette di lavorare sul PDF come se stessimo studiando davvero su un testo cartaccio, è davvero molto funzionale da questo punto di vista. Ha, dalla sua, anche un buono spazio di archiviazione, perché ci offre gratuitamente 2 GB di spazio, che, insomma, parlando di file PDF, comunque, si configura come, insomma, una buona dimensione, anche esso gestisce molti stili citazionali e Mendeley è quello un po' più social di questi strumenti, nel senso che ha un proprio catalogo sul quale si possono fare ricerche, ha funzioni abbastanza sviluppate di condivisione, ha un sistema anche di suggerimenti di opportunità di lavoro, che si chiama Mendeley Careers, un po' molesto, alla lunga, devo dire, perché non si riesce, a me io faccio fatica a disattivarlo, ma vabbè. Creando un account di Mendeley, poi si riesce ad ottenere un accesso anche a una piattaforma di gestione di dati, ad esempio un repository per la gestione di dati della ricerca, che si chiama Mendeley Data. Tra gli svantaggi di Mendeley è il fatto che, sì, gratuito, ma non è open source, non ha un'interfaccia in italiano, che per alcuni utenti può risultare un po' come un deterrente, e per il momento la nuova versione di Mendeley Reference Manager che, ripeto, dovrebbe andare a soppiantare la versione storica Mendeley Desktop, è molto meno funzionale rispetto a Mendeley Desktop. Immagino faranno degli aggiustamenti, loro dicono che l'hanno tarata sulla base di feedback ricevuti dall'utenza, il mio feedback non è altro a quello sicuramente, perché io sarò che ovviamente ci si mette un po' da tassi alle novità, ma preferisco moltissimo Mendeley Desktop. L'ultimo dei tre strumenti di cui vi volevo parlare in questa introduzione è Zotero. Zotero è uno strumento sempre gratuito e in questo caso è stato prodotto invece da un ente no profit, quindi dalla George Mason University americana. Anche qua, sull'home page di Zotero troviamo un messaggino promozionale molto calzante, molto veritiero. Cosa ci dice? Ci dice che Zotero è il nostro assistente di ricerca personale, che è uno strumento gratuito, facile da usare, che ci può aiutare a raccogliere, organizzare, citare e condividere la ricerca. Ed è anche qua tutto vero, effettivamente queste sono le funzionalità di questi sistemi. Dalla sua Zotero ha il fatto non solo di essere gratuito, ma anche di essere un sistema in questo caso open source, tant'è che viene ampiamente saccheggiato anche da altri sistemi. Il codice di progettazione è disponibile per la comunità gratuitamente e questo fa sì che esista una grande comunità di sviluppo e di utenza che offre appunto supporto ad altri utenti e offre anche lo sviluppo di plugin, di nuove funzionalità che possono andare magari a colmare qualche gap che Zotero può avere nei confronti di altri strumenti. È uno strumento multipiattaforma, quindi funziona anche Zotero come Mendeley sia su Windows che su Mac che su Linux. Dal mio punto di vista è quello che ha l'interfaccia d'uso più semplice e più intuitiva e devo dire che su questo fronte aiuta anche il fatto che abbia un'interfaccia in italiano anche se la traduzione non è proprio perfetta al 100%. Ci sono alcuni comandi che rimangono in inglese però la maggior parte delle funzionalità è effettivamente disponibile in italiano. Ha una grandissima compatibilità con Mendeley anche perché appunto è stato ampiamente saccheggiato nel suo codice da altri prodotti tra cui anche Mendeley. Una grande nota positiva di Zotero dal mio punto di vista è che funziona non solo con i classici sistemi di videoscrittura come Word, LibroOffice e OpenOffice e così via ma funziona anche su Google Documents quindi lavorando online su Google Documenti se avete installato Zotero sul vostro computer o comunque se avete un account Zotero potete riuscire a usare le funzionalità di Zotero lavorando su Google Docs ed è una cosa molto interessante. Anche Zotero al pari degli altri gestisce molti stili citazionali e è un po' più indietro rispetto ad altri strumenti su altre funzioni come ad esempio la gestione di PDF su Zotero non è come su Mendeley Zotero apre semplicemente i PDF attraverso il programma di default installato sul sistema la gestione dei duplicati non è sempre ottimale anche se anche qui come su Mendeley non avviene a differenza di E-Note uno contro uno ma uno a molti che è una cosa molto buona e ci permette di schiacciare le informazioni di più record contemporaneamente su uno solo la gestione di duplicati a volte facilecca ma devo dire che nelle ultime versioni è molto migliorata è molto migliorata anche per il fatto che è open source quindi che c'è questa grande comunità di sviluppo che continua continuamente a rilasciare aggiornamenti e correzioni di bug lo spazio di richiviazione è su Zotero molto più limitato rispetto a Mendeley perché Mendeley abbiamo detto ha metto a disposizione 2 gigabyte Zotero ha metto a disposizione solo 300 mega questo come il fatto che non gestisce direttamente i pdf in realtà sono dei problemi non problemi nel senso che anche per la gestione dei pdf la comunità ha sviluppato delle app per la gestione invece dello spazio di richiviazione è molto semplice tramite le funzionalità di Zotero inserire all'interno dei nostri record dei link che rimandano a Google Drive Dropbox e così via quindi altri sistemi di archiviazione esterni quindi non non mi farà intimorire dallo scarso spazio di archiviazione che Zotero ha dentro di sé come stili citazionali abbiamo visto che appunto tutti questi strumenti li gestiscono molti li gestiscono molto bene immagino non ci sia bisogno di spiegarvi cos'è uno stile citazionale in ogni caso è il modo in cui devono essere formatati i riferimenti bibliografici e le bibliografie all'interno di un testo sul quale stiamo lavorando non esiste un unico standard di stile citazionale ce ne sono alcuni che sono degli pseudo standard o quasi all'interno di certe aree tematiche disciplinari ma anche qui non è così sappiamo che il Vancouver è abbastanza diffuso in ambito biomedico poi c'è però diffusissimo rimane comunque il Chicago Harvard lo stile dell'AMA dell'APA nell'ambito umanistico lo stile della model languages association e così via e poi sapete meglio di me che moltissime riviste hanno degli stili citazionali propri e quindi parliamo di più di 10.000 stili citazionali diversi ovviamente lo ricordava già Ivana prima muoversi all'interno di questo panorama manualmente è davvero complicato non solo nel momento in cui produciamo un testo dover formatare manualmente lo stile citazionale dei riferimenti bibliografici o delle bibliografie ma pensate cosa può voler dire sottoporre ad una rivista un articolo che è formatato con uno stile citazionale la rivista ce lo boccia la dobbiamo sottomettere ad un'altra rivista che ha uno stile completamente diverso da noi ci sono utenti che fanno ancora questa cosa a mano che per me è una follia non è un affrontabile oggettivamente ma sì è avvilente sicuramente è una perdita di tempo incredibile ed ha un tasso di errore pazzesco perché ovviamente qualcosa sfugge quindi abbiamo già cominciato in realtà a vedere perché usare questi strumenti io adesso sul Zotero vi faccio vedere qualche schermata di queste funzionalità l'intento di questo momento di questa chiacchierata tra di noi non è quello di spiegare come utilizzare singole funzionalità sul Zotero ma quanto quello di farvi capire davvero cosa possono fare questi strumenti e anche perché per le singole funzionalità esistono quantità industriali di guide tutorial su web davvero l'accesso a queste risorse è molto semplice allora questo è il sito dal quale si può scaricare Zotero quando si scarica Zotero vengono scaricati anche i plugin per i Word processor quindi per Word e per LibroOffice e rimane da scaricare ed è consigliabile farlo quello che si chiama Zotero Connector che è un add-on per il browser che ci permette di importare direttamente da browser delle referenze bibliografiche qui vedete il logo di Google Chrome di fianco allo Zotero Connector perché è il browser che stavo usando quando ho fatto lo screenshot ma in realtà ne esistono Zotero Connector anche per gli altri browser sotto vedete che c'è quel pulsante plugins da lì si accede ad una pagina di Zotero del sito di Zotero nella quale sono elencati tutti gli sterminati i plugin che sono stati via via prodotti quello che vi dicevo prima Zotero ha qualche funzionalità in meno di suo rispetto ad altri reference management software ma il supporto dell'utenza è davvero impareggiabile su questo fronte allora vediamo che con Zotero quindi possiamo importare da banca dati direttamente da banca dati da file esportati dalle banche dati questo ad esempio è un esempio di importazione di un file formato Medline possiamo poi importare direttamente da pdf quindi trascinando semplicemente dentro Zotero un pdf che abbiamo salvato in locale sul nostro pc il sistema va ad estrapolare i metadati e crea il record bibliografico e poi con lo Zotero connector che è quel quadratino che vedete qua non so se va al ma o qua in alto possiamo appunto importare direttamente dal sito web mentre stiamo navigando questo è un altro caso un altro esempio sempre da PubMed Zotero attraverso l'installazione dello Zotero connector riconosce che in questa pagina web ci sono dei metadati di articoli ce li segnala ci fa vedere che appunto ci sono questi 2, 4, 6 ho 10 10 articoli ci permette di scegliere quali vogliamo importare diamo l'ok selezioniamo la cartella di Zotero nella quale vogliamo salvare i nostri i nostri record e l'importazione è fatta sia per quanto riguarda l'importazione da web sia per quanto riguarda l'importazione da pdf anche dalle banche dati in realtà però da queste ultime due opzioni a maggior ragione è molto consigliabile controllare il risultato dell'import ok perché e questo vale per tutti gli strumenti non solo per Zotero ma anche per la colpa non è dello strumento la colpa è di come sono stati impostati i metadati da come si riescono a recuperare i metadati se i metadati sono impostati male nell'esempio di prima del metadato dell'articolo pdf che vi ho fatto vedere ad esempio nel campo soggetto credo adesso non vado a memoria c'erano indicati in realtà i dati di pubblicazione tanto per dire il sistema importa quello che trova ovviamente quindi bisogna sempre supervisionare l'esito delle importazioni che facciamo possiamo inserire manualmente dei documenti quindi andiamo a scegliere qual è il tipo di documento qual è l'entità che stiamo gestendo poi andiamo a compilare manualmente i dati Zotero ci permette poi di inserire sempre manualmente ma tramite codici identificativi quindi sbn doip medid archive eccetera eccetera una volta che abbiamo importato tutto quello che ci interessa lo possiamo poi organizzare e per organizzarlo possiamo usare sia le cartelle che i tag i tag vengono importati automaticamente ad esempio dalle banche delle keywords di PAMED finiscono per diventare dei tag di Zotero ma li possiamo inserire noi aggiungere noi manualmente e questi sono due modi molto semplici per andare a recuperare l'informazione poi che ci serve una funzionalità molto interessante secondo me di Zotero è che ha un collegamento dialoga con Retraction Watch quindi nel momento in cui noi andiamo ad importare una referenza che è stata in realtà ritirata ovviamente se questa è disponibile sul database di Retraction Watch Zotero ce la segnala ce la mette in una cartella a parte ce la marchia graficamente con una bella X rossa e poi ci fa vedere appunto ci dà questo disclaimer in rosso nel momento scusate non vi ho detto sulla sinistra ci sono i comandi diciamo la gestione della nostra libreria al centro l'elenco dei documenti che fanno parte della libreria che stiamo visualizzando e sulla destra c'è il dettaglio del documento che stiamo visualizzando in quel momento all'inizio delle referenze degli articoli ritirati compare questo disclaimer in rosso con il dettaglio delle motivazioni il link a Retraction Watch e questa è una funzione davvero interessante ovviamente non ci mette a riparo al 100% dal citare articoli che poi sono stati effettivamente ritirati perché questi come vi dicevo devono comunque far parte di Retraction Watch possiamo inserire manualmente delle note quindi appiccicare dei post-it ai nostri documenti per segnalarci qualsiasi cosa sia di nostro interesse ad esempio qui ho inserito manualmente una nota su questo documento con scritto da citare come esempio di scientific misconduct ho fatto questo per farvi vedere che le funzionalità di ricerca di Zotero all'interno delle nostre librerie ci permettono di recuperare anche il testo che abbiamo inserito nelle note cioè quando andiamo a cercare qualcosa all'interno delle nostre librerie di Zotero scansiona i documenti ma anche le note quindi se ho bisogno di recuperare perché devo fare un articolo sulla scientific misconduct tutti e mi sono scordato di fare una cartella apposita o di mettere un tag mi ricordo che ho inserito qualcosa nelle note di alcuni documenti vado a scrivere scientific misc in questo caso e il sistema mi recupera già l'articolo nella cui nota io ho inserito queste parole chiave ha anche una funzionalità di ricerca avanzata oltre alla ricerca semplice che è quella che abbiamo visto in questa slide nella ricerca avanzata ovviamente ho la possibilità di dettagliare maggiormente quali sono le informazioni di cui voglio andare alla ricerca la funzionalità di rimozione dei duplicati di Zotero è come dicevo prima molto migliorata e la cosa bella di Zotero è che ci mette in una cartella se tutti gli elementi che lui scansionando la nostra libreria rileva come dei duplicati e ce li fa vedere quello che ci permette di fare poi è di scegliere una delle versioni come documento master diciamo così come base dalla quale partire quella che immediatamente è quella che ci risulta più completa ovviamente adesso quello sulla destra vedete che ha un elenco autori più lungo rispetto agli altri due quindi ipotizziamo di mantenere questo come documento master lo andiamo a selezionare nella tendina e quello che ci dà la possibilità di fare però è di scegliere nei campi che si differenziano tra un record e l'altro la versione che preferiamo mantenere cioè noi potremmo andare a tenere la versione master che è quella a destra però tenendo in questo caso il titolo della pubblicazione che è uno degli errori di traduzione perché in realtà è il nome della rivista tenendo come nome della rivista quello di un altro record perché la forma ci piace di più una volta che andiamo ad accorpare poi abbiamo scelto qual è il documento master che abbiamo scelto quale versione dei campi preferiamo mantenere andando ad accorpare i documenti i documenti vengono fusi e da lì in avanti avremo un solo documento la funzionalità primaria di questi strumenti appunto era quella di inserire riferimenti bibliografici qui vi faccio vedere qualche screenshot anche riguardo a questo installando Zotero compaiono nei word processor dei tab relativi appunto a Zotero e inserire riferimenti è davvero una cosa semplicissima in questo modo basta posizionarsi nella porzione di testo nella quale vogliamo inserire una referenza cliccare sul pulsante Add Edit Citation scegliere lo stile citazionale dare l'ok compare questa questa mascherina di ricerca nella quale inserendo una parte del titolo o un autore dei lavori che vogliamo citare poi il sistema ci dà i suggerimenti che andandogli a selezionare poi si trasformano in una referenza bibliografica una volta che abbiamo inserito tutte le referenze che ci interessa a inserire ci basta cliccare su Add di posizionarci alla fine del testo nel punto in cui vogliamo inserire una bibliografia cliccare su Add Bibliography e il sistema ci formatta automaticamente una bibliografia sulla base di tutte le referenze che abbiamo inserite nel testo mantenendo lo stile citazionale che abbiamo scelto all'inizio se abbiamo necessità di cambiare lo stile citazionale ci basta andare sulle preferenze del documento selezionare uno stile citazionale diverso prima era Chicago adesso prendiamo il Vancouver diamo l'ok e vediamo che automaticamente sia le referenze all'interno del testo sia la bibliografia vengono riformattati un'altra cosa molto interessante di questi strumenti è che nel momento in cui ci accorgiamo di un errore questa pubblicazione dice qualcosa ci accorgiamo di un errore all'interno della nostra referenza possiamo andarla correggere molto semplicemente andando nel giro sul nostro database di Zotero adesso qua c'era un errore nella formattazione del nome di questo gruppo è bastato andare su Zotero era formatato come un cognome di persona quindi cognome nome cognome regola nome in realtà per i gruppi basta passare al campo unico sistemando il record di Zotero si torna sul documento sul quale stiamo lavorando diamo un refresh e le referenze e bibliografie si aggiornano automaticamente il discorso del collegamento con le traction watch funziona non solo sul Zotero sul database dove abbiamo salvato le nostre referenze ma anche nel momento in cui andiamo a scrivere quindi se noi andiamo inserire cerchiamo come referenza una referenza che Zotero ci ha segnalato come ritirata il sistema ci dà un alert esce questa mascherina scritta in italiano attenzione poi in inglese the item you are citing has been detected in questo caso noi potremmo comunque avere la necessità di citare una referenza ritirata quantomeno per dire che era una schifezza e in questo caso possiamo disattivare l'alert però è una funzionalità importante perché a volte appunto quando abbiamo delle librerie di migliaia di documenti potremmo non far caso anche che c'è stato qualcosa di ritirato e il sistema ci dà l'alert nel momento in cui cerchiamo di inserirlo come referenza nel test chiudo un po' e ritornando un attimo ai vantaggi dell'open source quindi di Zotero li abbiamo già visti li ripetiamo un attimo la comunità vastissima di sviluppatori è un grandissimo vantaggio perché ci permette appunto di colmare delle lacune di sistemare dei bug di avere sempre nuove funzionalità e il supporto da parte della comunità è molto grande dal punto di vista anche del supporto all'utenza cioè quando un utente non sa come utilizzare certe funzioni la comunità risponde mediamente molto bene e come vi dicevo prima appunto lo sviluppo di nuove funzionalità e plug-in esterni ci permettono di andare a colmare appunto quelle lacune di cui abbiamo parlato ad esempio Zotfile è un plug-in che trovate all'interno dei plug-in disponibili in quella pagina web del sito di Zotero di cui vi ho parlato prima è un plug-in per la gestione dei pdf quindi ci permette di andare più verso quello che fa Mendeley esistono app per i dispositivi mobili che ci permettono di consultare molto intuitivamente le nostre librerie e così via l'open source poi non ve lo insegno di certo io permette un equoaccesso agli strumenti anche in quei posti in cui l'accesso alle risorse a pagamento è davvero complicato e poi il fatto che sia stato sviluppato da un non da una casa editrice non da un produttore di altri servizi ci garantisce un'indipendenza che in prospettiva è sempre un valore aggiunto solo per diti che il bello della diretta è giù perché adesso era offline perfetto giù non va volevi dire perché tu non hai pagato la connessione internet il problema è quello allora in sintesi quindi perché utilizzare questi strumenti l'abbiamo visto davvero sia se parliamo di studenti sia che parliamo di ricercatori che di clinici che di documentalisti che di insomma utenti base della biblioteca il succo della questione è che davvero rendono più facile molto più veloce ma anche più preciso e coerente il lavoro che stiamo facendo chiudo con una cosa che sembra scollegata ma dal mio punto di vista non lo è tanto ed è con questa slide che ho chiamato così verso la bibliometria allora sappiamo tutti che ormai le citazioni sono un po' al centro del mondo per quanto riguarda il lavoro dei ricercatori nel senso che la quasi totalità delle valutazioni della performance si basa su indici bibliometrici che hanno come base l'analisi delle citazioni una corretta gestione di metadati quindi che ci porta ad avere una corretta formatazione di riferimenti bibliografici quindi a fare corrette citazioni ci permette di avere un ciclo di vita della citazione ottimale quindi di gestire le citazioni al meglio allora questo ovviamente ha delle ricadute positive anche in termini di indicatori bibliometrici di gestione dei profili che possono essere profili orchi delle social id o quello che è quindi anche questo messaggio almeno nella nostra realtà stiamo cercando di farla passare ai ricercatori perché è vero che magari non è una cosa che tocca direttamente il ricercatore nel momento in cui va a inserire una citazione di un altro però diciamo che se tutto il mondo vira verso questo approccio sicuramente il circolo che si instaura è un circolo di tipo virtuoso io ho finito vi ringrazio davvero moltissimo spero di aver sforato grazie grazie Simone secondo me con questa chiusa diciamo è anche sottolineato l'importanza così del diciamo pure visto che siamo insomma un convegno di biblioteche l'importanza dei bibliotecari dei bibliotecari documentalisti biomedici perché queste non sono cose burocratiche a volte i ricercatori si stupano queste cose burocratiche non sono cose burocratiche sono semplicemente così anche in termini poi utilitaristici cercare di non produrre immondizia che poi si clona e genera altre immondizie quindi non non è utile ai fini poi della della valutazione della performance quindi l'importanza dell'attenzione ai dati ai metadati alla correttezza tutte queste cose su cui tu hai sottolineato hai posto l'attenzione insomma e poi Mauro continuerà su questo argomento di come usare di un utilizzo ottimale ma adesso passiamo la parola alla professoressa Silvia Gianola venga arrivata con la quale avevamo come associazione una relazione da finire in sospeso perché l'incontro che abbiamo fatto sulle revisioni sistematiche sugli strumenti per le revisioni sistematiche esattamente nell'ambito del percorso GDIF RBM Academy il 24 novembre scorso insieme con il professor Moia era stato così talmente interessante che insomma due ore non sono bastate per esaurire l'argomento e quindi ci era rimasto proprio sospeso questa parte che riguarda l'utilizzo ottimale dei software di reference management nella stesura delle revisioni sistematiche nella realizzazione delle revisioni sistematiche nel percorso e la professionessa Gianola è una giovane ricercatrice che ha un background interessante perché ha una laurea triennale in fisioterapia e una magistrale in scienza delle professioni sanitarie di tipo riabilitativo con un master quindi un interesse per la riabilitazione dei disordini muscoloscheletrici poi però ha sviluppato un dottorato di ricerca in sanità pubblica e approfondito le conoscenze sulle linee guida per la pratica clinica sulle revisioni sistematiche sulla produzione di metanalisi e quindi su tutta la metodologia evidence based medicine lavora all'unità di epidemiologia clinica dell'IRCS ortopedico galeazzo a milano e dove si occupa di questo argomento e collabora anche con l'istituto superiore di sanità col centro nazionale per l'eccellenza clinica la qualità e la sicurezza delle cure e nonché docente in vari corsi presso varie università è con piacere che le diamo la parola quindi su questo argomento all'uso dei tools per la gestione dei records nelle revisioni sistematiche della letteratura grazie perfetto mi sentite ok di solito preferisco stare in piedi però va bene allora già mi ha introdotto io di fatto sono una ricercatrice ormai sono dieci anni che mi occupo di revisioni sistematiche studi di metaprogetto e di linee guida le revisioni sistematiche sapete essere anche voi la base il presupposto per una larga confidenza poi nel prendere delle decisioni cliniche informate alla base delle raccomandazioni cliniche che vengono fatte da parte delle linee guida io credo che l'invito che mi è stato fatto è volto proprio a far vedere nella pratica del ricercatore come l'utilizzo dei tool possano aiutare la gestione appunto di questi studi che sono abbastanza complessi che sono le revisioni sistematiche per avere diciamo una definizione comune e magari esco un attimo dal seminato che siete abituati a vedere perché parliamo di ricerca in senso un pochino diciamo di nicchia perché sono revisioni di letteratura secondaria una revisione sistematica è una sintesi della letteratura biometrica che utilizza dei metodi espliciti trasparenti per avere una valutazione critica di tutti gli studi che vengono inclusi a livello mondiale su un determinato quesito clinico questo succede per cercare di ridurre gli errori sistematici e anche gli errori casuali più studi confermano esattamente lo stesso risultato più siamo confidenti nel fatto che effettivamente ci avviciniamo diciamo al vero le revisioni sistematiche sono un bellissimo esercizio per il ricercatore ma devono anche essere utili per il clinico una revisione sistematica può aiutare il clinico quando sostanzialmente riesce a portare alla luce quali sono gli outcome diciamo di efficacia e gli outcome di sicurezza e possono essere rappresentati con una certezza dell'evidenza attraverso alcuni metodi come per esempio l'approccio grade per cercare di appunto migliorare questa confidenza che possiamo avere nei risultati perché i risultati potrebbero anche essere distorti dagli studi primari ci sono una serie di passaggi che chiaramente potrebbero minare alla sicurezza la validità dei dati questo è quello di cui diciamo mi occupo io e per farvi capire quanto sono importanti sostanzialmente le revisioni sistematiche porto alla luce questo esempio che probabilmente qualcuno di voi o magari molti di voi conoscono è una revisione sistematica commissionata dall'organizzazione mondiale della sanità in tempi di diciamo prima ondata del coronavirus in cui diciamo fino a maggio più o meno anche nel nostro contesto italiano non venivano ancora utilizzate le mascherine in modo così ampio come invece siamo abituati ormai oggi l'organizzazione mondiale della sanità fino a maggio del 2020 raccomandava l'utilizzo delle mascherine chirurgiche e soprattutto le FFP2 soltanto agli operatori sanitari che si trovavano in stretto contatto con casi di aerosol quindi terapie intensive pazienti con tracheostomie insomma situazioni molto particolari per assurdo il triage sostanzialmente l'operatore sanitario doveva se voleva a sua discrezione indossare la mascherina chirurgica bene questa diciamo velocemente è stata compiuta una rapid systematic review commissionata appunto dall'organizzazione mondiale della sanità a chi al grade working group che è il gruppo che internazionalmente si è riconosciuto per diciamo il metodo di approccio alla confidenza dei risultati dell'evidence based in medicine hanno prodotto questa rapid review e dal primo giugno del 2020 questa revisione sistematica con meta analisi quindi con analisi quantitativa ha dimostrato il largo beneficio nell'utilizzo delle mascherine e vi ho praticamente sottolineato il forest plot che è l'analisi quantitativa inerente all'utilizzo della FFP2 che è quella che oggi noi indossiamo per essere qua oggi quindi diciamo le revisioni sistematiche hanno un grande supporto per la sanità pubblica e non solo la sanità pubblica in tanti campi trasversali e potrebbero essere utilizzati come in questo caso proprio per dare delle raccomandazioni per la pratica clinica ora una revisione sistematica come vi ho detto prima l'esempio di prima ma poi largamente anche nel piccolo la revisione sistematica è uno sforzo condivido da più persone da più ruoli all'interno non è soltanto il metodologo che fa la revisione sistematica non è solo il clinico e non è solo diciamo l'information specialist il documentalista ma è l'insieme di tutti questi ruoli che nelle diverse fasi intervengono per avere diciamo la completezza maggiore possibile per svolgere la validità di questo tipo di revisione l'handbook della Cochrane la Cochrane è il goal standard per le revisioni sistematiche da una diciamo un'accezione molto particolare al ruolo dell'information specialist o il librarian tant'è vero che loro sono proprio il goal standard delle revisioni sistematiche e hanno proprio dei documentalisti che lavorano per i loro gruppi e a cui demandano totalmente la prima fase dell'impostazione della revisione sistematica che cosa intendo intendo sostanzialmente la fase in cui costruiscono il PICO la research question insieme al metodologo al clinico e lavorano sulla diciamo strategia di ricerca e poi consigliano e guidano tutta la fase attraverso le banche dati e non solo in alcune fasi intervengono anche a livello proprio della selezione degli studi che è diciamo il corpo della presentazione o l'intento della presentazione che volevo farvi oggi per cui il ruolo che voi avete non è soltanto un ruolo nella pianificazione e nella condotta ma in realtà diventa un ruolo preponderante anche nella fase di reporting proprio della revisione sistematica cioè del documento che verrà pubblicato perché di fatto ci sono alcuni passaggi che prevedono proprio diciamo le information source e la fase di selezione che poi devono anche essere accuratamente riportate all'interno della revisione sistematica per diciamo guidarvi nella presentazione proviamo a vedere tutti i passaggi di costruzione di una revisione sistematica almeno per quanto riguarda la prima parte dei metodi attraverso il prisma il prisma è la guideline del reporting per le revisioni sistematiche le meta-analisi e diciamo in modo un po' didattico provo a guidarvi sulle prime fasi quando pianifichiamo diciamo una revisione sistematica abbiamo in mente sostanzialmente una popolazione di interesse un intervento verso il quale poi viene comparato e un impatto sugli outcome di interesse sostanzialmente questo definisce la research question il pico question di interesse da qui si evincono si sviscerano meglio i criteri di elegibilità degli studi che poi dovremo andare a cercare e si imposta sostanzialmente insieme ai documentalist tutta la parte delle information source banche dati piuttosto che letteratura grigia piuttosto che studi on going tutti i registri e via dicendo se teniamo l'esempio di prima per esempio l'utilizzo delle mascherine in particolare la comparazione delle FFP2 e le N95 respirators verso le surgical mask in una determinata popolazione come per esempio possono essere gli operatori sanitari esposti al covid vogliamo vedere qual è l'impatto su alcuni outcome di interesse per per esempio ridurre la clinical infection per cui noi settiamo alcuni criteri di elegibilità e andiamo poi a definire quali sono per questo contesto clinico sostanzialmente le information source che sono più diciamo adeguate o che possono rispondere al quesito di ricerca questa parte è una parte che viene diciamo gestita totalmente con appunto il lavoro coadiuvato del clinico del metodologo e del documentalist l'obiettivo è quello di recuperare tutti gli studi pubblicati e non pubblicati su un determinato argomento pubblicati e non pubblicati perché in realtà c'è sapete benissimo anche una publication bias che potrebbe spostare anche notevolmente l'effetto di un intervento ecco per cui la revisione sistematica nel suo intento ha proprio questo obiettivo di cercare di ridurre più possibile il bias di errore sistematico dovuto anche a una non selezione per quanto riguarda le search strategy forse lo sapete meglio di me esiste anche una guideline che guida praticamente la press che guida il processo di diciamo accurato di reporting delle search strategy che devono essere pilotate devono essere fatte in doppio devono essere fatte con una determinata dicitura di reporting soprattutto negli appendici devono essere assolutamente disponibili perché l'obiettivo della revisione sistematica è che sia riproducibile qualsiasi altro ricercatore in tutto il mondo dovrebbe avere la possibilità di prendere quella stringa riproporla rigirarla e avere esattamente gli stessi record che sono stati ottenuti chiaramente considerando l'update nel momento in cui fate rirannare la search strategy questo è uno dei vanti per cui la revisione sistematica davvero diventa diciamo valida perché è riproducibile da qualsiasi altra persona detto questo passiamo alla fase diciamo un po' più corposa che è quella della selezione quindi noi sostanzialmente abbiamo già impostato una strategia di ricerca dobbiamo selezionare gli articoli e dobbiamo praticamente gestire l'output della search strategy questo è quello che si trova a fare il ricercatore durante una revisione sistematica abbiamo diverse diciamo output che vengono da diverse banche dati e non e dobbiamo sostanzialmente avere una lista alla fine di tutto questo dei potenziali studi che sono elegibili alla revisione che cosa facciamo in pratica dobbiamo ottenere una lista di referenze uniche non possiamo averne 5 o 6 in base alle 5 o 6 banche dati che abbiamo perché come diceva prima il collega ci sono anche dei duplicati tra le diverse banche dati c'è un overlapping abbastanza importante soprattutto magari tra PubMed ed Enbase però già che prendiamo magari il 30% però più o meno però se prendiamo altre banche dati come per esempio io sono di base una fisioterapista quindi lavoro nella scienza della riabilitazione c'è una banca dati che è Pidro pessima per le search che però effettivamente spesso ha degli articoli che non si trovano magari in altre banche dati magari c'è anche un motivo però vabbè al di là di questo effettivamente il fatto di riuscire a recuperare diverse banche dati per una revisione sistematica è un'ottima cosa ma dobbiamo avere una lista unica come facciamo dobbiamo praticamente importarle in un software che gestisca sostanzialmente i duplicati in modo tale da semplificare i risultati voi avete un'idea più o meno quando si fa una revisione sistematica di quanti record potremmo ottenere più o meno un ordine di grandezza ecco non ho potevo riportarvi il risultato per esempio di quella che ha fatto Olga Schunemann sulle mascherine però potrebbero essere intorno agli 8.000 10.000 record quando abbiamo qualcosa di grosso chiaramente più la research question è stretta a una narrow inclusion criteria chiaramente poi più abbiamo sostanzialmente una mole di lavoro inferiore però quando cominciano a diventare veramente tanti record dobbiamo cercare di semplificare il più possibile quello che possiamo fare è mettere tutto su un programma di gestione delle referenze Endnote Zotero Mendeley qualcuno lo fa con Excel quello che bisogna fare è eliminare i doppioni lo stesso articolo infatti è indicizzato nelle diverse banche dati e quale diciamo citation manager possiamo utilizzare non ce n'è uno migliore di altri vi ha già fatto vedere il collega tutti i pro e i contro nell'utilizzo di uno o dell'altro diciamo software in realtà alcune diciamo alcuni lavori in letteratura hanno mostrato come il più utilizzato il più largamento utilizzato nelle revisioni sistematiche Endnote Endnote viene utilizzato per diversi diciamo obiettivi uno è quello della ricerca bibliografica la raccolta dati citare mentre già scrivete e l'altro è quello di riuscire ad importare i dati solitamente quando noi importiamo i dati per la revisione sistematica prendiamo tutti diciamo la lista di referenze di PubMed piuttosto che di Embesa di Scopus Web of Science eccetera e quando li importo direttamente accetto praticamente che vengano già tolti duplicati in modo tale che veramente la maggior parte del lavoro viene fatto questo viene gestito con le preferenze all'interno di Endnote se entrate nelle preference voi avete l'opportunità di scegliere in base a che cosa eliminare i duplicati ed amblet questo lo potete fare però soltanto subito all'inizio quando lo importate altrimenti dopo succede quello che aveva detto il collega vi trovate praticamente a doverli togliere uno a uno avete le maschere a fianco e dovete diciamo toglierli quando c'è l'importazione per esempio Medline ok voi vi compare subito la schermata se volete togliere direttamente i duplicati e accettate poi quando importate in base vi richiede esattamente la stessa cosa ogni volta che importate nuovo ok per cui di fatto la seconda nota importante di endnote appunto è il fatto che trovi i duplicati una volta che abbiamo pulito i duplicati più o meno ci troviamo un'unica lista di referenze sulla quale dobbiamo lavorare cosa dobbiamo fare dobbiamo selezionare gli articoli in base ai criteri di elegibilità della nostra revisione sistematica in modo tale che valutiamo se l'articolo effettivamente ricade all'interno dei criteri di inclusione e possa rispondere al quesito della nostra ricerca oppure no inizialmente c'è la fase cosiddetta di screening io screeno il titolo la abstract dopodiché una volta che questo viene fatto in doppio in modo indipendente c'è il confronto tra i revisori e si passa alla seconda fase cioè si recuperano i full text e sui full text viene praticamente fatta la vera fase finale per l'inclusione ok l'ultimo passaggio è la rivalutazione di ogni articolo leggendo appunto il full text il lavoro deve essere sempre fatto in modo indipendente ci si confronta e vanno presi soltanto gli articoli che sono davvero pertinenti la fase di risoluzione diciamo del disagreement può essere fatto tramite discussione tra i revisori oppure tramite l'impiego di un terzo revisore come vi dicevo prima la maggior parte delle revisioni sistematiche ha questo flow che è praticamente il flow è sostanzialmente il diagramma di flusso dal quale partono tutte le search strategie con i loro record c'è la lista unica e seguite tutte le fasi di screening inclusione che vi ho appena detto in cui ottenete poi nell'imbuto finale nell'ultima casella gli studi che vengono inclusi in modo definitivo per rispondere alla domanda di ricerca come vedete all'inizio qua eravamo per esempio sugli 8000 record che questa era una revisione sistematica sul neck pain problema diciamo abbastanza diciamo ad alta prevalenza il picco era abbastanza largo perché erano tutti gli interventi farmacologici non farmacologici ma questa è più o meno la media delle revisioni sistematiche però 8000 record una volta che arrivano a una lista di questo tipo non è che posso gestirla in modo indipendente con il mio compagno revisore su un foglio word altrimenti non mi si carica neanche il file quindi la Cochrane diciamo suggerisce ma non solo la Cochrane di aiutarsi nella fase di selezione che diventa molto importante e impegnativa proprio in termini di tempo tramite dei tool dei tool che possono aiutare a automatizzare questa fase i software che possono aiutare in questa fase li trovate per esempio su questo website che è Systematic Review Toolbox è un bellissimo website per chi si interfaccia con le revisioni sistematiche perché in base alle varie fasi in cui vi trovate che sia la fase di selection di data extraction piuttosto che addirittura le analisi voi selezionate la spunta mi spiace che non ho un puntatore laser però praticamente qui voi potete collegare quello che vi interessa a seconda della fase in cui vi trovate e vi compaiono una serie di software o di tools che possono aiutarvi non ne compaiono due o tre ma veramente ne compaiono dieci venti trenta per cui è un website che aiuta tanto poi chiaramente come in ogni cosa va in base alle preferenze del suo utilizzatore e anche all'adattamento del contesto del tipo di ricerca che fate io per portarvi una per darvi alcuni esempi di come ci possono essere dei tool che aiutano nella fase proprio di selezione dei record perché ricordo che quando abbiamo parlato l'ultima volta al nostro meeting che abbiamo fatto qualcuno ha detto ma anche noi bibliotecari a volte svolgiamo questo ruolo parziale magari riusciamo a fare anche la prima fase di screening bene questi sono dei tools che aiutano proprio soprattutto nella fase di screening e anche nella fase di inclusione quelli più utilizzati sono Ryan e Covidence non so se già li avete diciamo sentiti Ryan è praticamente è il tool gratuito fatto dagli Emirati Arabi probabilmente costruito sulla falsa riga di Covidence però funziona esattamente come il suo compagno Covidence e funziona molto bene facile da utilizzare Covidence invece è il prodotto sostanzialmente neggiato dalla Cochrane Collaboration per chi fa revisioni Cochrane infatti è un tool che viene fornito in modo gratuito per chi fa revisioni Cochrane addirittura la prima revisione non Cochrane che viene fatta dagli stessi autori può essere gratuita dopodiché in realtà si paga c'è una versione trial è una versione però di 14 giorni se non sbaglio per cui impensabile pensare di fare una revisione sistematica che sapete bene dura non dico anni però sicuramente almeno 7-8-12 mesi quando fatta in modo adeguato per cui da lì dalla versione trial poi dovete per forza andare sulla versione a pagamento Ryan è un'ottima alternativa vi porto entrambi gli esempi giusto per farvi capire una volta che importate i record voi li potete importare in diversi formati RTF se non sbaglio INL e diversi altri formati in RIS anche se non sbaglio una volta che li importate la funzione permette di invitare diversi revisori l'invito è in blind cioè in cieco quindi ogni persona lavora in modo indipendente al termine diciamo della fine della vostra fase di selezione si può togliere quel blind blind off blind on di modo che quello che succede è che voi vedete sostanzialmente quello che ha fatto il vostro compagno quello che avete fatto voi in verde compariranno coloro che sono gli articoli dati per l'inclusione in rosso quelli per l'esclusione e diciamo in un altro colore invece quelli che sono unclear sono in bianco per questo è un esempio in cui vedete il summary dell'inclusion e l'exclusion fatta dal dal revisore dal primo revisore così avete un'idea di quanti sostanzialmente più o meno avete incluso questa è l'interfaccia che compare quando state lavorando in singolo avete qua la possibilità ulteriormente di rivedere alcuni duplicati che magari sono scappati con endnote non sono mai tantissimi però alcuni a volte potrebbero accadere ancora sono quelli che magari sono trascritti soltanto magari con delle lettere maiuscole o minuscole eccetera che magari sono scappate un'altra funzione che può fare Ryan è quella di avere le keywords da segnalare per l'inclusione e l'esclusione cioè voi potete selezionare tutto quello che volete evidenziare che è per l'inclusione mi metto il tag che voglio solo gli studi randomizzati e io metto randomize e mi compare in verde se io non voglio gli studi osservazionali nella mia inclusione li metto in rosso di modo che è velocissimo quando mi compaiono già nel titolo io a colpo d'occhio so già che magari alcuni sono da escludere alcuni sono da includere altre cose che ok questa è l'interfaccia che vi fa vedere una volta che io praticamente ho tolto il blinding qui c'è il mio nome e il nome dell'altro revisore questi sono gli studi che vedete nell'interfaccia a sinistra non ci arrivo ok entra bravo sì scusate ok qua vedete nell'interfaccia undecided sono quelli che in teoria magari sono rimasti fuori no e non avete ancora scrinato in realtà qua è zero perché avete già tolto il blinding e avete già fatto tutto il lavoro i maybe sono quelli insicuri di cui non avete non sapete ancora categorizzare gli inclusion sono quelli inclusi gli esclusi sono questi i conflitti sono zero perché qua probabilmente avevamo già fatto una buona pulizia ci mancava soltanto rivedere insieme tutti i maybe ok qui potete mettere anche dei tag quando ci sono i conflitti voi potete segnalare mentre fate sia in singolo che quando poi togliete il blinding potete anche mettere dei label per ricordarvi su che cosa avevate il dubbio in modo tale che quando arrivate nel confronto con il compagno voi non è che dovete perdere ancora di fare il ragionamento ma avete messo il tag e questo scorre diciamo molto più veloce per un confronto ora vediamo Covidence che funziona in modo analogo è molto semplice da utilizzare l'interfaccia grafica è un po' più carina però di fatto fa la stessa cosa avete la possibilità di mettervi una maschera che vi dice quali sono i criteri di elegibilità per così se per caso vi dimenticate anziché andare ad aprire il file della vostra revisione sistematica per capire quali erano diciamo i criteri per includere o escludere voi li avete sostanzialmente lì lo fate tramite questa funzione che si chiama setting e praticamente analogamente diciamo a quello che succede in Ryan potete mettere dei tag potete mettere i tag per il fatto che alcuni potrebbero essere esclusi per diverse ragioni per esempio una ragione di esclusione è la waiting classification perché magari la lingua è una lingua che non è includibile piuttosto che gli studi sono ongoing piuttosto che gli studi non hanno una descrizione dell'intervento per cui non ricade all'interno del vostro gruppo di interesse piuttosto che c'è un wrong outcome e non dovete escluderli qua potete creare tutti i tag questo diciamo vi aiuta soprattutto rispetto a Ryan che non ha questa funzione perché se fate bene tutti questi tag quando fate l'esclusione lui automaticamente costruisce quel famoso flow diagram che raccomanda il prisma quindi ve lo costruisce già di default se voi riuscite a crearvi i vostri tag quando arrivate alle vostre referenze questo lo escludo e mettete già un click sul tag di interesse poi alla fine arrivate praticamente in questa posizione prisma cliccate e vi esce il flow adesso vi faccio vedere il tag dell'inclusion exclusion è esattamente uguale a quello di Ryan avete la possibilità di selezionare in verde coloro che vi aiutano gli highlight che vi aiutano sostanzialmente per arrivare alla fase di inclusione se sono interessata solo al mal di schiena low back pain in verde tutti gli altri problemi muscoloscheletrici in rosso di modo che molto facilmente a livello visivo vado per l'inclusione o l'esclusione questi alcuni esempi delle keywords per l'inclusion o l'exclusion low back pain disability randomize surgical tutta la parte chirurgica infatti l'avevamo esclusa pregnancy cancer chronic eccetera ok ovviamente questa funzione la fa anche Ryan voi potete avere la possibilità di nascondere diciamo l'abstract e leggere soltanto il titolo piuttosto che se la cosa più comoda è tenere solo i titoli all'inizio se il titolo non vi convince siete insicuri potete diciamo scoprire l'abstract e andare più nello specifico questa è la funzione del prisma che vi dicevo sostanzialmente e qui avete praticamente la costruzione automatica del vostro prisma in modo tale che questo sebbene possa sembrare banale in realtà è un compito molto oneroso perché tante volte uno è occupato dai mille record che deve fare la fase di screening inclusion eccetera a un certo punto dopo n mesi si trova a scrivere il paper e bisogna scrivere quello che è stato fatto si perdono i passaggi questo diventa sempre un macello da fare se invece il tool il software lo fa di default è un grande aiuto poi magari diciamo la fashion way più bella per rifarlo si può sempre diciamo tenerla però almeno il canovaccio di brutta con tutti i record lo avete Ryan non lo fa questa è l'unica differenza tra i due Covidence è un tool che è talmente integrato all'interno della Cochrane che poi una volta fatta la fase di selection perché oggi abbiamo visto questa in realtà poi una volta che voi decidete gli inclusi vi prepara delle maschere per il data extraction data extraction proprio delle caratteristiche generali degli outcome di interesse e anche dei dati cioè di tutti i propri dati di ogni singolo outcome per ogni comparazione di intervento che volete Covidence può essere esportato messo su Revman che è il software che gestisce le analisi dei dati delle meta-analisi e lì è bello perché è praticamente tutto integrato praticamente questa parte Ryan non la fa Ryan si ferma la study selection che è questa parte che vi ho fatto vedere adesso ultima slide e spero di anche essere stata nei tempi il messaggio che cos'è che so che magari è un mondo che magari a qualcuno un po' più vicino qualcuno un po' più lontano le revisioni sistematiche sono un bellissimo strumento per la valutazione delle decisioni cliniche da prendere in medicina in senso lato queste diciamo aiutano anche le politiche sanitarie come vi ho fatto vedere all'inizio però le revisioni sistematiche non sono dei progetti banali sono molto complessi e devono essere supportati al giorno d'oggi abbiamo gli strumenti per farlo per cui alcuni di questi tool che vi ho fatto vedere possono aiutare a meglio organizzare tutte le fasi sistematiche del processo e con questo diciamo concludo e mi auguro anche che si instaurino anche molte più collaborazioni tra le diverse figure e ruoli perché a volte si sono tante diciamo parole poi nei fatti ci si trova sempre ognuno a fare il proprio pezzettino io nell'esperienza che ho avuto in questi ultimi due anni collaborando con l'istituto spoglio di sanità ci siamo trovati a fare da evidence review team quindi a fare tutto questo processo e finalmente abbiamo avuto supporto delle documentalist per tutta la prima parte della costruzione della ricerca perché alcune raccomandazioni erano basate su delle clinical question adottate dalla linea guida NICE per cui di fatto abbiamo ripreso le strategie condiviso con le documentaliste sostanzialmente alcuni dettagli per poter lanciare le strategie alcuni picco question alcune clinical question invece i panelisti ce li hanno chiesti di nuovo e abbiamo dovuto costruirle insieme a loro per cui è stata veramente un'esperienza diversa dal fare le revisioni sistematiche che eravamo abituati per cui con questo concludo e vi ringrazio vi lascio la mia mail grazie mille professoressa Gianola e io mi aggancio a questo ultimo auspicio di poter essere sempre maggiormente collaborativi da parte nostra credo che ci sia tutta la disponibilità spesso magari per varie ragioni questo non avviene ma speriamo che le giovani generazioni vadano in una direzione in questo tipo di direzione perché è un vantaggio per tutti alla fine trovarsi soli è veramente triste c'è ancora gente che lavora in modo molto file excel conosco queste situazioni per cui ecco quello poi sugli vari strumenti penso che sia una cosa che potremo anche successivamente approfondire ancora se di vostro interesse perché ovviamente tutto quello che poi noi siamo molto interessati anche a concretizzare le cose e a vederle proprio come funzionano per cui se di interesse dei colleghi potremmo anche sfruttarla ancora in seguito passo ora a Mauro Mauro Mazzocut un collega del un giovane collega per quanto mi riguarda del direttivo del GDIF e e così colgo anche l'occasione per così ringraziare tutte le colleghe del direttivo perché in in GDIF insomma le cose si fanno effettivamente insieme poi c'è qualcuno che tira di più e per fortuna e tra l'altro siamo anche in scadenza quindi ecco questo è un appello faccio un piccolo inciso a così a a proporvi eventualmente per portare avanti questa associazione che dal 1985 supporta il lavoro dei bibliotecari documentalisti biomedici nelle varie strutture del servizio sanitario nazionale e case farmaceutiche eccetera e Mauro con Mauro ho lavorato circa dieci anni per cui cerco di essere il più obiettivo possibile lui ha una doppia laurea in storia e in archivistica e biblioteconomia ed è passato attraverso un'esperienza nelle biblioteche pubbliche dove si occupava di catalogazione di musica questi interessi musicali congeniti nelle biblioteche biomediche quindi dieci anni al Claudio di Aviano e poi al Gasolini di Genova al San Martino di Genova scusate e ora è tornato all'università dove dove ha conseguito la laurea cioè nell'area dell'Arts di Humanities a Ca' Foscari e con con Mauro abbiamo lavorato insieme su vari argomenti io conosco bene la sua propensione la sua capacità didattica voglio sottolineare è un bravissimo bibliotecario formatore e proprio si diverte e poi l'attenzione ai dati alla standardizzazione dei dati ai metadati l'interesse per la misinformation il falso la ricerca delle fake news e l'health literacy e poi questo lavoro questo coinvolgimento nella valutazione della ricerca nel magico mondo degli indicatori bibliometrici per quanto riguarda poi i dati questo suo intervento in questo workshop è proprio per quanto riguarda l'uso degli software citazionali e non solo nella pulizia dei dati nella loro trasformazione nel loro arricchimento e nel supporto ai ricercatori quindi nell'essere a fianco dei ricercatori dei clinici degli studenti in questo percorso lascio a Mauro la relazione allora mi unisco all'introduzione che ha fatto Simone perché per me è particolarmente bello essere qui visto che da un anno lavoro ho proprio cambiato completamente settore dal biomedico sono passate in area umanistica quindi oggi per me è proprio l'occasione di rivedere tanti amici quindi sono molto contento di essere qui a fare questa presentazione ah il microfono mi sentite così si è acceso ma ok bene allora io oggi volevo affrontare la questione dei software per la gestione delle bibliografie in un modo un po' cioè affrontando più o meno le stesse cose che sono già state dette dai relatori che mi hanno preceduto però con un approccio un po' diverso allora innanzitutto così ricordo una cosa simpatica il prima la prima cosa che ho fatto quando ho cominciato a lavorare nel 2010 al CRO è stato un utilizzo eterodosso di reference manager che è il papà di EndNote perché se ti ricordi Ivana la prima cosa mi ha detto guarda ci sarebbe da trasformare l'archivio delle pubblicazioni del CRO che è su reference manager in un codice XML e prova a vedere se riesce a combinare qualcosa con il sistema di programmazione degli output citazionali cosa che io non sapevo neppure che cosa fosse perché ero arrivato proprio nuovo nuovo da qualche mese sì sì dalle biblioteche pubbliche quindi non avevo però effettivamente già lì ho cominciato a capire quale poteva essere quale poteva essere un utilizzo eterodosso ma utile nell'ambito delle pratiche proprio quotidiane e rutinarie anche del bibliotecario abbiamo fatto questo alla fine ci siamo riusciti abbiamo fatto in un mesetto abbiamo fatto questo codice XML e siamo riusciti ad esportare le pubblicazioni del CRO insomma un archivio che andava dal 2006 se non ricordo male quella volta dal 96 sì scusa dal 96 fino al 2010 in codice XML con un piccolo intervento da parte degli informatici così per inciso approfitto un attimo serviva a fare una cosa che non è ancora stata fatta ahimè serviva a confluire a far confluire i nostri dati come anche quelli mi ricordo di Pavia eravamo piloti nel in un costruendo repository istituzionale dell'Istituto Superiore di Sanità che doveva essere il repository istituzionale della ricerca biomedica in Italia cosa che mi risulta ancora ahimè vabbè chiudo comunque questa è stata diciamo la mia prima esperienza con un software di gestione bibliografica appunto utilizzandolo non proprio per quello per la finalità con cui era stato pensato e utilizzato poi nel tempo vabbè ho cominciato utilizzare Zotero perché all'epoca era free perché utilizzavo Firefox e nella sua prima versione era praticamente non veniva installato Zotero ma era un plug-in di questo browser poi si è sviluppato e quindi ho continuato ad utilizzare Zotero e mi è stato utile nel piccolo lavoro di ricerca che ho svolto quello appunto per la patient education sulle fake news e la misinformation in ambito biomedico e e lì ho cominciato a ragionare su un fatto qual è qual è il vantaggio fondamentale che hanno questi questi software di gestione bibliografica e che è emerso da sia nelle nelle visioni sistematiche sia poi tra le conclusioni che della relazione di Simone e che fa risparmiare tempo e questo è un elemento chiave sia nel lavoro ovviamente dei bibliotecari ma anche per i ricercatori che tempo ne hanno sempre ne hanno poco ne hanno sempre meno e su e su su questo diciamo su questo elemento qui poi quando sono andato a lavorare a San Martino di Genova in una realtà che per me era sconosciuta proprio non conoscevo le persone non conoscevo come era organizzata la struttura eccetera il fatto di aver fatto preparare dal servizio informatico un'installazione apposita di Zotero per cui si poteva evitare di chiamare l'ufficio informatico per fare per installare il programma ma si poteva bypassare diciamo il fatto di non essere amministratore di sistema mi ha permesso di relazionarmi e di far di conoscere entrare in contatto con con i ricercatori quindi è stato diciamo uno strumento tra altri di outreach cioè di promozione e di pubblicità della biblioteca e tra l'altro avevamo fatto i corsi anche al Croco Nivana avevamo inserito Zotero in un percorso di formazione che si chiama si fa presto si chiamava si fa presto direi internet ed era un percorso di information literacy per i ricercatori per cui si andava dalla formazione del quesito di ricerca fino alla quasi alla stesura di un articolo scientifico in pillole di un'ora in pillole formative di un'ora in cui si facevano conoscere degli strumenti poteva essere PAMED poteva essere SINAL poteva essere qualsiasi altra banca dati specialistica ma c'era anche appunto Zotero c'era anche Reference Manager e c'era anche RefWorks quindi eravamo ecumenici ecco il problema è che è un po' un inganno quello mi sono reso conto che è un po' un inganno il fatto che fa risparmiare tempo si fa risparmiare tempo quando effettivamente tu fai con un bottone clicchi ti redigi la bibliografia con un altro bottone clicchi ti cambia lo stile citazionale però ci vuole tempo per creare per costruire un database per crearlo e per mantenerlo aggiornato eccetera però questo tempo è un investimento nel senso che se lo si fa periodicamente lo si fa entrare nella routine di lavoro fa risparmiare sia il tempo della realizzazione di una bibliografia ma soprattutto si recupera tutta una serie di altri tempi di altro tempo perso che consiste per esempio nel rifare molte volte la ricerca in una banca dati per recuperare un articolo che magari sia già 3000 file pdf per esempio non ci si ricorda dove si è letta un'informazione per esempio gli appunti sono sparsi in diverse cartelle sulla chiavetta sul computer che uso a casa piuttosto che sul computer che uso al lavoro piuttosto che sul computer dell'istituto dove lavoravo in precedenza che non ho fatto il backup e mi sono dimenticato oppure nel computer in cui mi si è lotto l'hard disk dove lì avevo conservato i pdf eccetera ecco questo diciamo l'utilizzo dei reference management software può essere utile anche per recuperare tutta questa serie di tempi morti e questo diciamo su questo concetto poi ho cominciato a fare la formazione su Zotero in particolare ma può essere benissimo applicabile a qualsiasi altro software di gestione bibliografica che poi è stato presentato insomma in precedenza e nella mia attuale diciamo collocazione lavorativa è stato inserito come tab formativa per i ricercatori dottorandi proprio sulla base di abbiamo costruito insomma un percorso formativo proprio basato su questo concetto dell'utilizzo dei software di gestione bibliografica per il recupero del tempo allora scusate io mi sono preso degli appunti non ho fatto delle slide ma perché voglio farvi vedere operativamente come 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 lo utilizzo insomma come lo utilizziamo qui ho creato una piccola bibliografia proprio basilare per per farvi vedere più o meno le cose che che facciamo vedere anche ai corsi allora io vorrei farvi vedere ecco le scusate ecco vedere se eccolo qua allora innanzitutto si si può utilizzare il software di gestione bibliografica per il recupero e l'accesso all'informazione in modo veloce ed ordinato uno degli elementi a cui non si fa spesso attenzione sono questi metadati qui sotto quando noi scarichiamo con il connettore di Zotero le informazioni bibliografiche generalmente verifichiamo come come ha detto prima Simone e dobbiamo verificare che le informazioni siano corrette verifichiamo che ci sia il titolo che ci siano gli autori che ci sia il fascicolo eccetera nell'ambito biomedico e scientifico diciamo quasi tutte le le fonti che poi noi andiamo a recuperare sono hanno subito o un processo editoriale o un processo catalografico per cui abbiamo i metadati ordinati e quindi diciamo presenti non è sempre così in ambito per esempio umanistico o nell'ambito delle scienze sociali dove magari non le fonti che vengono consultate non sono diciamo standardizzate però una cosa che noi possiamo sempre utilizzare sono questi campi qua che generalmente non sempre ma generalmente restano vuoti per esempio se noi andiamo a scaricare da PubMed PubMed generalmente compare nel catalogo della biblioteca e compare anche il suo PubMed Identifier non è detto che da altre banche dati questa informazione compaia però sempre nell'ordine di diciamo di molti record bibliografici e soprattutto in una prospettiva temporale diciamo di medio termine non di brevissimo termine non nella redazione di una bibliografia che deve essere fatta per un articolo e poi sparisce ma nella costruzione di una biblioteca personale che sia ricca di informazioni e coerente ecco questi sono degli elementi che ci permettono di risalire all'origine della nostra fonte di informazione un altro elemento vincente è quello che prima vi diceva Simone è la possibilità di aggiungere le note le note sono collegate alla referenza bibliografica che noi stiamo in questo momento consultando leggendo questo può essere un modo utile per tenere collegate i ragionamenti il riassunto che faccio dell'articolo che sto leggendo piuttosto che il ragionamento le osservazioni le connessioni con altre con altre fonti possono essere inserite in queste note come degli appunti e sono direttamente collegate alla alla referenza che io sto consultando e vengono conservate nel database e sono ricercavili come vi ha fatto prima vedere e questo ovviamente velocizza il 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 sì allora poniamo caso che io voglio prendermi degli degli appunti su questo su questo su questo articolo no consideriamo poi che ci si può mettere un'intestazione il titolo 1 il titolo 2 quindi anche diciamo un'organizzazione gerarchica come se fosse un appunto ok se io vado qui e cerco appunti trovo direttamente la la nota che ho che ho scritto e questo effettivamente è molto utile soprattutto in una prospettiva temporale a me è successo proprio personalmente di aver scritto un articolo nel 2016 riguardo alla disinformazione insomma ha fatto un'analisi con dei colleghi dell'università di Udine che si occupavano di intelligenza artificiale insomma per recuperare le informazioni sulle sulle chat sui blog eccetera riguardo a terapie complementari e no terapie alternative scusate oncologiche eccetera avevo cominciato ad utilizzare Zotero proprio per scrivermi gli appunti sulle referenze che stavo leggendo in quel momento due anni dopo due o tre anni dopo ho scritto un altro lavoro più o meno sullo stesso tema e sono riuscito a recuperare le informazioni che avevo scritto gli appunti anche dei collegamenti che non erano ovviamente finiti nell'articolo poi che era stato pubblicato nel 2016 perché l'articolo ha una certa lunghezza a una certa struttura eccetera però mi sono state utili nel due o tre anni dopo e non me le sarei mai ricordate o perlomeno me le sarei ricordate in modo grezzo non strutturato come l'avevo strutturato quando ho preso gli appunti si tratta di appunti ovviamente li possiamo anche utilizzare cioè possiamo prenderci i nostri appunti in un foglio di Word e lo possiamo allegare possiamo utilizzare gli allegati però questa è una cosa diciamo molto interessante perché è molto facile il recupero come diceva prima Simone sulle funzionalità noi sappiamo che sia gli allegati che le note sono sono indicizzate se noi andiamo a vedere qua sulla preferenza modifica preferenza di Zotero vediamo che abbiamo la possibilità di quantificare il numero di caratteri indicizzati per ciascun allegato per ciascun record e quante pagine per per ciascun per ciascun allegato quindi diciamo in un pdf le prime 100 pagine fino a 500.000 caratteri può essere aumentato può essere ridotto ovviamente questo poi implica un certo appesentimento della diciamo delle funzionalità di ricerca però questo qui di default diciamo non mi ha mai tradito insomma è abbastanza sufficiente per andare a recuperare l'informazione che mi interessa un'altra diciamo funzionalità interessante da questo punto di vista è la gestione degli allegati anche qui voi noi trattiamo l'articolo scientifico 99,9% delle volte nel nostro lavoro però non è detto che ci debba essere solo quello possono esserci anche dei rapporti possono esserci anche dei dati no in ogni caso noi possiamo collegare ad una referenza un allegato e lo possiamo fare in tre modi diversi ecco questo qui è un po' in grigio no scusatemi c'è il collegamento all'AURI che è un link uniform resource identifier si allega una copia memorizzata del file e si allega un collegamento al file che vuol dire fare un collegamento all'interno del computer allora come si diceva prima Zotero è un software gratuito con un limite grosso che è di 300 mega di spazio disponibile spazio inteso come la possibilità di fare backup nei server di Zotero ok vuol dire che noi abbiamo un'installazione se ci scriviamo al sito e facciamo il login abbiamo diritto ad avere uno spazio di memoria nei server di Zotero in cui fare il backup di tutte le nostre referenze altro modo per velocizzare l'accesso e garantirsi l'accesso nel tempo alla nostra biblioteca personale lo spazio gratuito è fino a un massimo di 300 mega ovviamente se noi leghiamo i pdf questo spazio all'interno del database questo spazio si esaurisce in maniera velocissima e non ce ne accorgiamo perché Zotero ci dice semplicemente che ci permette di aggiornare sempre i nostri pdf ma quelli che avevamo salvato prima come allegati poi non ce li fa più aprire questa è una cosa che ho visto non c'è non so se tu Simone te ne sei accorto ma non c'è un alert che ti dice guarda che hai superato i 300 mega quindi si rischia di perdere il riferimento il pdf quindi la modalità che noi suggeriamo nei corsi che facciamo ai dottorandi e che faremo anche in futuro a docenti e ricercatori dell'università è quello di utilizzare aggiungi un link alla URI questo perché perché ci permette di utilizzare un link in uno spazio web dove noi abbiamo salvato il pdf senza dover caricare il pdf legare il pdf nel nostro database e senza dover essere vincolati ad utilizzare sempre il nostro computer perché perché se io faccio un collegamento al file semplicemente creo un collegamento ad una cartella del mio computer ma se io accedo a Zotero senza utilizzare il mio computer ed è possibile non riesco a raggiungere il file quindi in maniera molto pratica se io ho una una cartella per esempio su google drive e volessi diciamo aggiungere un allegato aggiungere come allegato il pdf a Zotero senza però consumare la memoria che ho a disposizione semplicemente creo un link ovviamente con tutte le impostazioni di condivisione riservatezza che vogliamo poi noi utilizzare copio il link utilizzo l'opzione aggiungi link collegamento alla URI lo chiamo pdf e ammesso che abbia preso il pdf giusto sono andato a caso qui mi trovo il collegamento vedete anche qui è possibile aggiungere ulteriori annotazioni quindi si può fare una differenziazione di annotazioni sul pdf e sulla referenza bibliografica e questo è il risultato di tutte queste operazioni è che noi in un unico punto di accesso abbiamo accesso scusate gioco di parole all'informazione bibliografica che ci serve per redigere la bibliografia con le informazioni per esempio sulla fonte che abbiamo utilizzato per recuperare questa informazione abbiamo i nostri appunti e abbiamo il collegamento al full text che ci interessa e questo è un notevole risparmio di tempo è un notevole risparmio di tempo sempre che sempre che si tenga poi ovviamente anche si faccia attenzione come viene organizzata l'informazione a livello di cartelle e di tag e questo può essere un po' un po' fuoriviante nella pratica e consideriamo il fatto diciamo consideriamo sempre teniamo sempre presente che noi lavoriamo in un'ottica di medio lungo termine quando utilizziamo questi software perché è un attimo utilizzare il connettore di Zotero per scaricare tutte le informazioni tutte le le referenze che ci che ci troviamo di fronte a prescindere se le useremo o meno è un attimo creare cartelle per progetti è un attimo popolare diciamo il cloud dei tag con le parole chiave che arrivano da PAMED perché le scariche che arrivano da un'altra banca dati che non usa il mesh quindi per descrivere la stessa cosa utilizza altre parole chiavi eccetera e quindi ha generare una grande confusione nell'organizzazione delle informazioni e questo è un secondo strato un secondo livello diciamo di interazione con il software per esempio vedete la mia tag cloud è abbastanza vuota di solito consigliamo di organizzare le le cartelle questa è un'indicizzazione pre-coordinata vuol dire che io metto da una cartella gli do un nome per esempio un progetto ci inserisco tutte le le referenze che stanno per esempio in quel progetto nel mio caso è la presentazione di oggi e se ne stanno sempre lì finché io non le tolgo se ne stanno sempre lì invece i tag fanno quello che si chiama indicizzazione post-coordinata cioè isolano raccolgono solamente le le referenze che sono associate a quel tag è un po' la differenza tra la classificazione di UI per chi diciamo anche lavorato con la catalogazione dei libri nei cataloghi insomma tra la classificazione di UI e la soggettazione esatto esatto per esempio io consiglio però è la mia interpretazione personale dipende sempre qual è poi il flusso di lavoro che ha la persona che utilizza lo strumento consiglio di utilizzare i tag come indicazioni operative per esempio che ne so da leggere già letto da scartare da rivedere da consigliare quello che serve oppure per esempio qui mi sono preparato alcuni esempi che vi faccio vedere fra poco mentre organizzare le cartelle per progetto su questo bisogna fare attenzione ad una cosa che è molto importante e sulla quale cadono anche i migliori le referenze non sono contenute all'interno delle cartelle è solamente una visualizzazione logica di come noi organizziamo le referenze all'interno di Zotero le referenze sono sempre elencate e salvate dentro la libreria personale o dentro le biblioteche di gruppo le varie biblioteche di gruppo ciascuna di queste vedete anche il colore lo stesso ciascuna di esse è come se fosse l'equivalente di una libreria personale quindi se io per esempio che ne so cancello da qui la guida ai servizi della biblioteca scientifica la cancello da qui vedete mi dice rimuovere dalla collezione degli elementi selezionati però se io vado a vedere su vedete c'è ancora io infatti me la rimetto trascinandola ed eccola qua di nuovo ok ecco esattamente questo il rischio sempre in un'ottica di medio lungo termine c'è il rischio che se noi ragioniamo solamente in cartelle per esempio cerchiamo più volte la stessa referenza bibliografica e poi andiamo a raccogliere i doppioni e questo è un problema questo è un problema perché in caso di estremo disordine noi potremmo trovarci la stessa referenza all'interno della stessa cartella come un doppione e citarla due volte nello stesso documento come se fossero due referenze diverse e non è una cosa uno dice vabbè la stessa la riconoscerà oppure la stessa mi accorgerò però per esempio anche riguardo quello che diceva Simone prima della qualità dei dati che vengono scaricati è vero che diciamo in ambito medico scientifico la stragrande maggioranza delle referenze ha subito un processo editoriale o catalografico per processo editoriale intendo dire l'editore ha formatato i metadati i metadati sono stati passati a un'agenzia di DOI data site piuttosto che crossref che ha associato un DOI ai metadati dell'articolo quindi io tiro giù il DOI e tiro giù tutto il resto lo stesso l'ISBN oppure c'è stato appunto un processo catalografico penso proprio i cataloghi infatti uno dei link resolver che utilizza Zotero per andare a recuperare automaticamente le informazioni è WorldCat di UCRC però questo non ci non ci salva diciamo dall'incoerenza dei metadati e questo poi mi fa piacere che avevo preparato questo esempio e ho visto che è stato citato anche da te prima se io lo scarico come vedete lui Zotero il connettore di Zotero mi individua me lo riconosce già come una monografia io clicco lo scarico scusate ho sbagliato ecco volevo scaricarlo qui ecco lo scarico se io invece utilizzo l'ISBN eccolo qui se invece utilizzo l'ISBN lo trova però vedete che le due lo raddoppia sì lo raddoppia ma non è quello il problema è che come vi ho fatto vedere prima Simone nello schiacciamento è sempre lo stesso libro due fonti diverse uno era Amazon e l'altro è SBN vedete che sono sono differenti ok questo quando noi abbiamo molte cartelle molti molte referenze molti progetti poi salto da perché mi ricordo che in quella cartella avevo salvato quella preferenza però l'avevo salvata la trovo anche in un'altra la volta dopo ecco questo può generare confusione quindi tutto questo per dirvi che cosa che nel caso voi decidiate di fare della formazione degli utenti su Zotero stressate diciamo l'aspetto di risparmio del tempo ma anche di come va investito il tempo nel mantenere organizzato e coerente il database perché sia funzionale cioè il piccolo lavoro quotidiano che viene fatto nella gestione di questo strumento non è una perdita di tempo equivalente a dove non so dove avevo salvato quel pdf chissà dove avevo lasciato gli appunti eccetera ma è un investimento che poi si traduce in un enorme guadagno sia dal punto di vista di velocità di accesso alle informazioni di recupero delle informazioni anche appunto di gestione della bibliografia ricordo che l'allegato può essere qualsiasi allegato se io preferisco scrivergli appunti a penna posso fargli una foto e li posso inserire come legato dopodiché eventualmente me li stampo cioè è molto duttile da questo punto di vista un'altra cosa interessante a proposito di velocità di accesso all'informazione è questa qui allora vedete che già mi ha popolato scusate vedete che già mi ha popolato fuori controllo mi ha popolato i tag a parte che c'è la possibilità di impedire di scaricarli automaticamente però allora questa è una cosa interessante Zotero vi darà la possibilità di cercare la disponibilità di un pdf cioè se c'è un pdf disponibile per quell'articolo e questo che cosa vuol dire vuol dire che se il pdf open access ed è collegato ad un DOI viene scaricato e lo si può allegare alla alla referenza bibliografica cosa vuol dire un pdf open access non vuol mica dire solo la versione editoriale può darsi che la versione editoriale sia dentro un paywall ma che la versione preprint o postprint sia disponibile in qualche repository per esempio universitario piuttosto che disciplinare eccetera dipende dalla politica di open access dell'editore e dipende appunto dalla disponibilità del pdf non è un 100% sicuro che recuperi il pdf però ad esempio in questo caso lui lo dovrebbe recuperare ecco infatti qua lo trovo ovviamente lui me lo allega come legato io dovrò aprirlo salvarlo togliere il collegamento crearmi il link alla URI eccetera dovrò fare tutto questo lavoro di omologazione come no guarda io non ho mai provato la stessa cosa che mi ha chiesto ieri Simone non l'ho mai provato dovrebbe essere possibile sperimentato non l'ho mai sperimentato neanche io però se vai nelle esperienze allora avanzate adesso avanzate ok dice questo a risparmio in automatico è interessato quello di CST dovrebbe essere possibile inserire vedete qua c'è tutta una serie di Politecnico Minerali sono solo quei due lì gli altri sono parecchi però io non l'ho mai non l'ho mai utilizzato però però c'è la possibilità ecco esatto come? come? sì 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 certo certo sì sì prego dimmi 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 Sabba ma la funzione per catturare o quella per cambiare l'incresolve allora vai per tutti i dubbi su Zotero su Zotero modifica preferenze e là troverete la risposta a tutti i vostri dubbi c'è tutto qui praticamente su avanzate open url è qui poi sì esatto default è questo poi noi possiamo decidere quale utilizzare sì sì ovviamente uno alla volta non può essere più di uno ok quanto quanto mi rimane perché volevo avevo un altro paio di cose però dimmi quanto mi rimane se no ok allora facciamo sì allora molto velocemente molto velocemente noi abbiamo ovviamente la possibilità di come vi dicevo abbiamo un backup noi possiamo fare una biblioteca una biblioteca di gruppo e c'è la possibilità di pubblicarla online allora per esempio potrebbe essere uno strumento utile per fare un display via web per esempio o di una bibliografia tematica penso a quella che abbiamo fatto come GDIF sul covid-19 ma per esempio potrebbe essere anche utile per chi non è dotato di un repository istituzionale avere una 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 pagina html con un permalink che ti permette di cercare e e e vedere la produzione scientifica del proprio istituto cosa che è sempre molto difficile da realizzare sui siti web istituzionali e che contiene ovviamente tutte le possibilità di ricerca che che mette a disposizione Zotero quindi questo potrebbe essere un altro utilizzo e niente un'altra cosa che volevo farvi vedere che è molto interessante è per esempio la possibilità di personalizzare gli stili citazionali anche in maniera molto molto facile e molto molto potente con un tool online che si chiama editor csleditor.org e qui csl è lo stile di diciamo citation style language scusatemi ed è lo stesso linguaggio condiviso con Mendeley per la gestione delle delle degli stili citazionali un piccolo lavoro che ho fatto è stata una cosa diciamo anche qui interessante che dimostra la duttilità dello strumento per esempio al San Martino dove lavoravo prima insomma fino all'anno scorso avevano la gestione della produttività scientifica gestita da un database costruito su access non aveva la possibilità di importare le pubblicazioni da Scopus e Web of Science attraverso Zotero che importa può anche importare se noi salviamo le strategie di ricerca su Scopus e Web of Science o su Panmedia importiamo con le informazioni relative ovviamente alle affiliazioni eccetera importiamo su Zotero le referenze poi è possibile creare uno stile citazionale che va a creare un file CSV che può essere letto e caricato in maniera massiva su un database costruito con access per esempio se io esporto cioè creo una bibliografia con questi elementi e utilizzo questo stile citazionale che ho creato ad hoc quando la incollo qui vedete che sono praticamente ottengo una stringa separata dal pipe che è questo simbolo qui quando io vado a importare su Excel la referenza lo faccio importo il dato separato per questo praticamente ho le informazioni organizzate suddivise per gruppi non è un studio citazionale vero questo l'ho creato io vedete per esempio ha tutta questa stringa con il nome della rivista abbreviata esatto il nome della rivista abbreviata la data fascicolo le pagine eccetera perché quel campo lì era un campo unico nel database di access esatto il DOI e via dicendo e questo è stato creato praticamente a mano con questo software con questo scusatemi no 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 questo è disponibile liberamente online no io sapevo come era costruito il come si dice il database quali campi aveva quali informazioni andavano prima dovevano copiarlo a mano cioè dovevano farsi l'export e copiarlo a mano e sì ovviamente con un alto tasso di errori invece in questo modo ma volevo farvi vedere proprio velocemente con il visual editor io semplicemente load style vediamo dovrei averlo nei download l'ho semplicemente caricato no 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 allora scegli file allora 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 eccolo qui no vedete in realtà è veramente semplice perché io decido quali sono i campi che mi interessano e dopo di che gli metto il pipe qua sotto come suffisso per il separatore di campo è molto semplice ve l'avevo detto e dopo di che si salva il file pipe va beh la stanghette vi assicuro che è molto più no e vi assicuro che è molto più facile fare così che creare l'xml si va beh lo usi come separatore di campo non ho capito niente scusatevi vi siete parlate non ho capito ah no no però quello degli stili citazionali in ambito biomedico è una cosa molto standardizzata vi assicuro che in ambito umanistico o di certe aree delle scienze sociali è una tragedia perché bisogna andare ad intervenire su su ogni stile citazionale perché ogni rivista ogni docente ha il suo stile citazionale ad hoc poveri studenti dei corsi di laurea no no è veramente con gli studenti abbiamo abbiamo sì sì è molto incide molto sul quindi imparare ad utilizzare questi strumenti che comunque sono facilitati perché non è editor visuale ti permette di ottenere dei risultati ecco andiamo a fare la pausa ok ovviamente noi in questi workshop non sono dei corsi di formazione no si danno degli spunti e delle possibilità poi si può approfondire insomma e questo intendiamo intendiamo offrire anche con tutta la la sostenibilità la chiamerei che che è possibile insomma quindi insomma potete farvi avanti e chiedere io adesso propongo una pausa caffè ci ritroviamo alle dunque siccome sì ah sì perché dunque sì perché i colleghi che poi si potranno seguire la pausa vedranno la registrazione ecco prego sopra è allora se vi faccio in giro con tutti due e non so sicuramente in termini di partecipazione l'invito è se volete al video partecipate le nostre iniziative il workshop è soltanto una parte del programma che si fa e abbiamo in programma due punti quindi adesso continui tu Mauro un altro argomento non so se mi sentite siete adesso continuiamo scusate il ritardo diciamo stavo dicendo che probabilmente è la carenza da relazioni che ci ha fatto svorare questa pausa quindi speriamo che comunque sia stata utile però abbiamo un altro importante argomento che affronterà di nuovo Mauro e che è Open Refine quindi cambiamo campo usciamo dai software citazionali e parliamo di questo strumento che però si affianca sempre nel lavoro di pulizia dei dati e di arricchimento di trasformazione di arricchimento prego allora qualcuno di voi conosce Open Refine o ne ha mai sentito parlare benissimo lavorate spesso con file di excel con 500 righe in cui dovete editare a mano le cose ok allora questo software probabilmente vi aiuterà nel vostro lavoro ed è anche questo come come Zotero uno strumento che può essere sia utilizzato per velocizzare il nostro lavoro quotidiano ma può anche essere utilizzato come uno strumento per fare formazione ai ricercatori e anche pubblicità alle attività della biblioteca ai servizi della biblioteca anche perché un po' alla volta l'orizzonte del data management e dell'open science con i requisiti voi sapete che in Horizon Europe adesso l'open science è obbligatorio al data management plan obbligatorio ci sono tutta una serie di requisiti per cui è importante cominciare a lavorare con i dati e a livello proprio base con la formatazione dei dati allora open refine in realtà è una storia lunga nasce come google refine alla fine degli anni 2000 ed è un servizio diciamo che si può installare nel computer richiede java e ha l'apparenza di un foglio di excel ma in realtà è un database dopo vi faccio vedere perché rispetto a excel ha diverse funzioni diciamo di visualizzazione filtraggio e trasformazione dei dati utilizza un linguaggio suo proprietario che si chiama grell grell sì ed è un acronimo che supporta a sua volta le espressioni regolari che non so se ne avete mai sentito parlare ma si tratta di espressioni informatiche che servono ad individuare dei pattern all'interno di un foglio di excel un test insomma qualsiasi diciamo documento in realtà è molto facile da usare anche perché diciamo una complessità che è scalabile nel senso più vuoi fare cose complicate più diventa diciamo lunga la curva di apprendimento mentre le operazioni di base sono basta vedere veramente due tutorial su youtube poi mano a mano che si vuole entrare nella trasformazione sempre più complessa dei dati ecco allora richiede diciamo un impegno un po' più esponenziale nell'apprendimento delle stringhe di diciamo di comando che servono ad effettuare queste operazioni però ha altre due aspetti molto molto interessanti soprattutto anche in ottica appunto open science la prima è che sebbene si avvalga del browser per funzionare in realtà non si connette alla rete quindi quando voi modificate i dati e trattate i dati anche se ci sono dati sensibili non vanno in giro in rete non è un servizio web based ce l'avete nel vostro computer ok quindi questo è già un primo elemento il secondo elemento molto interessante è che ha la possibilità di fare la riconciliazione di dati o la come si dice la web scrapping cioè estrarre informazioni da siti web o applicazioni web che mettono a disposizione delle informazioni e questo se riesco oggi vediamo un esempio vi permette di catturare delle informazioni che già sono standardizzate penso nell'ambito della chimica la nomenclatura delle sostanze chimiche per esempio per chi si occupa di quel tipo di ricerca cosa che non faremo oggi oggi ci limiteremo a dati bibliografici vi farò vedere e quindi insomma anche questo questo elemento qui è diciamo è molto interessante perché permette non solo di trasformare i dati che noi abbiamo in un dataset di partenza originale ma anche di arricchirlo con ulteriori informazioni che arrivano da altri dataset che poi è esattamente quello è lo spirito dell'open science e del fatto di pubblicare e mettere a disposizione i dati della ricerca un'altra cosa interessante è che esiste una history delle operazioni che vengono fatte quindi è possibile tracciare rendere riproducibile le operazioni di trasformazioni che vengono fatte senza che il programma poi intacchi il dataset originale quindi noi avremo il dataset originale il dataset risultante e appunto tutta la storia delle trasformazioni che sono state fatte ecco questo metodologicamente anche è un elemento di come si può dire di di valore aggiunto di questo software che è open source e invece uno svantaggio ecco si utilizza Java che non è di per sé uno svantaggio ma molto spesso magari bisognerà chiedere al servizio informatico di installare il programma e di installare anche Java e comunque sebbene lui arrivi fino a 5 milioni a gestire fino a 5 milioni di righe di Excel autonomamente è chiaro che più si fanno le trasformazioni più alto il numero delle righe più sono complesse le trasformazioni più ha un'incidenza sulla CPU del computer e sulla memoria di lavoro e ovviamente anche le operazioni di arricchimento dei dati che arrivano da altre fonti via web o con i servizi di riconciliazione ecco richiedono un tempo di lavoro consistente ok quindi non è non è immediato allora io oggi abbiamo un quarto d'ora di tempo quindi non riuscirò a farvi vedere tutto quello che avevo preparato per voi però avevo creato un dataset scaricando da Scopus e Web of Science la produzione del Crodi Aviano nel 2020 perché mi era più facile conoscevo insomma tutti gli autori e da Scopus e da Web of Science incasinando un po' le diciamo le informazioni per cui da Web of Science avevo importato anche i corresponding author avevo esportato le affiliazioni da entrambe le le affiliazioni per autore da entrambe le banche dati poi ho preparato un dataset incolonnando per facilità perché si può fare anche già da Open Refine per cui tutti gli autori sono nella stessa colonna tutti i titoli nella stessa colonna e via dicendo bene e questo è come si dice il dataset di esempio allora qua ho un po' di dati per il 2020 avevo scaricato da Scopus 328 record e 297 da Web of Science ovviamente ci sono dei doppi io non so quali sono ci sono dei doppi e ovviamente essendo due banche dati diverse hanno formattato le informazioni in modo diverso d'accordo lo scopo che mi ero prefissato era quello di individuare eliminare le incoerenze fra i dati per esempio come sono formatati i nomi dopo vi faccio vedere individuare le affiliazioni corrette per ciascun autore e in questo modo individuare qual è l'ordine degli autori e creare delle colonne in cui io so visualizzare so calcolare quanti sono i primi autori del CRO e quanti sono gli ultimi autori del CRO per ciascun articolo e poi ho provato a importare le informazioni relative all'editore che non erano incluse nel dataset che avevo scaricato allora come potete vedere qua io ho la visualizzazione di 10 record allora questa qui la tolgo perché tanto so che non faremo in tempo a vederla ok così un po' più facile allora vedete io ho delle colonne ho delle righe per ciascuna riga ho delle informazioni è proprio come Excel no? d'accordo bene non so se riuscite a vedere bene ditemi se in fondo riuscite a vedere bene no eh e no no perché io non vedo dietro come è proiettato vedo vedo qui eh CSV e sì scusa hai ragione ho esportato in CSV non in RIS perché non è supportato stiamo parlando di dati ok quindi o in CSV o invece che separati per virgola per tab esatto ok molto bene allora la prima il primo vantaggio che ci dà questo questo software è possiamo vedere come sono formattati i dati e se ci sono delle incoerenze tra di loro per esempio io faccio una prima utilizzo una prima faccetta di testo io dopo non vi faccio vedere quali sono le funzionalità ci sono i tutorial online è molto facile più che altro no 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 è facile è facile però è difficile però è difficile sempre di più quanto più tu vuoi diventare diciamo brava con questa cosa qui basic allora basic basic l'avete già visto perché secondo me voi il filtro per testo l'avete già visto su Excel giusto? certo benissimo la stessa cosa allora qui vedete quanti sono i record se io ad esempio clicco su scopus vedo che gli autori per esempio sono nel formato cognome nome punto virgola giusto? se vado su OS vedo che sono col punto virgola ma cognome nome per il tero e questa è già una cosa che mi interessa per esempio un'altra cosa che potrebbe interessarmi è l'affiliazione per autori se io vado su Web of Science vedo che ho scusatemi su scopus vedo che ho una cosa interessante c'ho l'autore giusto? con la sua affiliazione e questo bene questo bene se io vado su Web of Science mi accorgo che ci sono delle malinconie perché innanzitutto c'è una parentesi quadra che apre e chiude però vedo che tutti gli autori che hanno che individuano una un'affiliazione sono messi assieme quindi se io poi voglio calcolare quali sono gli autori qual è l'affiliazione giusta per ciascun autore e qual è l'ordine delle cose come faccio crearmi una colonna a calcolare in quali in quali in quali articoli gli autori cro sono primo autore secondo autore perché su quelli di scopus ce li ho ma non ce li ho su quelli di Web of Science e ce ne saranno alcuni che sono duplicati ci sono overlapping ma ce ne sono alcuni che mi resteranno fuori e io non so quanti sono ma quello che io voglio evitare di fare è sicuramente quello di mettermi a manina fare tutto il lavoro perché è facile ma ci vuole tanto tempo vuol dire fare ore e ore e ore di lavoro e vuol dire anche avere una grossa probabilità di sbagliare d'accordo benissimo un'altra cosa che è interessante vedere per esempio le source title su Web of Science sono in maiuscolo su scopus sono in minuscolo ok poi posso anche vedere per esempio io rimuovo questi filtri e guardo sulle faccette testo e vedo che come è possibile ci sono vedete se io faccio ordina per quantità abbiamo cancers 21 cancers 16 vedete allora qua cominciamo a vedere una delle cose interessanti di OpenRefine per esempio mi può dire io posso fare una clusterizzazione per cui tutte le varianti del nome secondo determinati algoritmi che non vi non vi spiego qui però a seconda dell'algoritmo può trovare diverse diverse l'algoritmo lo si sceglie da qui praticamente è molto ci sono due gruppi di algoritmi collisione chiave e il vicino più vicino ok lavorano in due modi diversi il vicino più vicino fa delle trasformazioni ed è molto utile per individuare o gli errori di battitura o per esempio la formatazione diversa la presenza di spazi eccetera oppure diciamo ci sono i raggruppamenti fonetici per cui è quelli di lingua statunitense latine slava eccetera per cui anche come suonano i nomi per esempio riconosce la diversa pronuncia o la diversa trasliterazione oppure vicino più vicino praticamente opera delle trasformazioni a seconda di un raggio che tu gli puoi dare all'interno di una stringa tu gli dici allora tienimi sei caratteri consecutivi sempre uguali e poi mi calcoli almeno tre trasformazioni per arrivare alla diciamo alla proposta di un cluster finale non so se è chiaro però non è necessario entrare bisogna un po' giocare capire che hanno queste funzionalità e giocare ok vedete qua ad esempio è un falso positivo bisogna stare attenti d'accordo ok allora oppure si può fare visto che la maggior parte delle incongruenze riguardano il maiuscolo e il minuscolo si può fare una modifica cella una trasformazione trasformazioni comuni scusate che mi sta tenendo trasformazioni comuni tutto in maiuscolo e vedrete che praticamente non abbiamo quasi più problemi ok tutto in maiuscolo un'altra cosa possiamo vederla ad esempio un'altra applicazione nei titoli vedete titoli è fuori dallo schermo io posso dire modifica colonne scusate riordina rimuovi colonne prendo il titolo lo porto su così lo vediamo bene anche qui probabilmente vedremo vedete che me li me li conta come due diversi anche se sono lo stesso anche qui possiamo fare un clustering e andare scusate ma devo vedere se così me lo prende ecco questo è un problema non sempre con i titoli lunghi riesci a interpretare bene la l'ampiezza della pagina li seleziono tutti per praticità dovrei andare a vedere ma per praticità unisci selezionati file recluster e con questo algoritmo non trova altri duplicati ne troviamo un altro vedete qui c'è per esempio l'iniziale di standard che è diversa eccetera seleziona tutti unisci selezionati recluster ovviamente io adesso non so se ho fatto bene a farli tutti ci vuole sempre un check però abbiamo 625 righe controllarle a mano anche anche ordinando per per ordine alfabetico diventa impegnativo quindi è possibile fare tutta una serie di trasformazioni in modo da omologare innanzitutto i dati renderli più più gestibili allora per quanto riguarda adesso la questione delle affiliazioni noi abbiamo un grosso problema perché i dati sono completamente diversi quindi io devo fare tutta una serie di operazioni che per sicurezza mi sono poi scritto in modo da effettuarle anche nell'ordine giusto perché poi ovviamente quello che fai incide in maniera massiva su tutti i record allora innanzitutto duplico modifica colonna aggiungi una colonna basata su questa mantengo lo stesso valore e mi credo due colonne inserisci un nome per colonna affiliazioni uos facciamo mentre questa le chiamo scusate allora qua vi faccio vedere il fatto che non si tratta in realtà di un Excel ma di un database per esempio allora se io aspetta un attimo allora io devo seleziono scopus d'accordo ovviamente le devo eliminare nel duplicato tengo da una colonna scopus ma una colonna uos allora modifica celle trasformazioni comune scusate perché io ce l'ho in italiano devo cambiarlo in inglese perché non riesco a trovare il comando scusate scusatemi devo cambiare perché non riesco a trovare le impostazioni lingua misce allora stavo dicendo scusate ok ok allora io ho cancellato come vedete le affiliazioni scopus dalla colonna uos infatti se io faccio una come ah ok ok e posso cominciare ad operare per esempio sulle affiliazioni scopus anzi in realtà queste sono quelle di web of science scusatemi column mi seleziono scopus e qua faccio la 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 trasformazione allora io posso dirgli split multivalued cells e gli dico qui è il punto e virgola scusatemi il punto e virgola sì di dividere le colonne per le righe per punto e virgola ok scusate e lui per ogni record mi divide per punto e virgola scusate un attimo credo di aver incasinato questo è uno dei problemi questo è uno dei problemi che ogni tanto si può incasinare con con java allora vado su redo torno indietro vedete questa era la traccia ok allora faccio un filtro per per fonte ok ecco adesso è venuto vedete lui mi crea delle righe sono in visualizzazione record e non più righe vedete e lui per i diversi autori mi ha creato cioè per ogni volta che ho trovato uno punto e virgola mi ha creato una riga diversa ok in questo modo io riesco a separare e ad organizzare le informazioni allora qua io faccio sono su queste sono quelle di scopus in realtà e queste sono quelle di web of science quindi ho fatto un errore nel cancellare le nel cancellare eh nel nominarle e anche a cancellarle quindi ho ottenuto questo di scopus sono qui allora faccio così se io faccio scopus li ho tutti e due se faccio web of science mi sono rimaste quelle di web of science qui ok vedete che non mi ha non mi ha modificato quelle di scopus lo stesso posso fare per esempio con gli autori split multivalure sales in questo caso è il punto e virgola ok e ho i vari autori divisi per 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 riga e in teoria se tutto è andato a buon fine mi troverò nei 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 record scopus ogni autore con la corrispondente affiliazione corretta e questo poi mi permette di fare appunto le trasformazioni necessarie per calcolare gli autori che però sono è gialla una quindi io non so se ok 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 altra cosa per esempio che possiamo fare è separare vedete qua abbiamo il nome che è separato da un punto e virgola non so se riuscite a vederlo dal resto dell'affiliazione quindi io qua posso creare una nuova colonna la posso separare in due colonne differenti metto come separatore decido il punto e il virgola gli dico di separarlo in due colonne e vedete mi troverò il nome che ormai non mi serve più e l'affiliazione sulla seconda colonna poi posso decidere di togliere tutti gli spazi in modo che vedete ho riallineato tutte le tutte le stringhe all'inizio del 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 campo e questa la possiamo rimuovere perché gli autori ce li abbiamo già separati cioè ce li abbiamo già in una colonna separata un'altra cosa che volevo farvi vedere magari proprio gli ultimi minuti allora io faccio una faccetta per ho segnalato la prima riga ho fatto una faccetta in modo che si veda solo questa e volevo farvi vedere solo la possibilità di di catturare informazioni da allora dove ha l'ISSN ah questa non ce l'ha l'ISSN bene allora un record che abbia l'ISSN ecco questo qui allora io qui ad esempio posso dirgli di aggiungere una colonna by fetching holes e qua gli devo scrivere gli devo scrivere il comando adatto per fare in modo che importi le informazioni da in questo caso da crossref quindi chiamo crossref data e gli dico scusate https slash slash api punto crossref perché so che quello è il servizio a cui io vado a chiedere le informazioni se non ricordo male la stringa corretta è journals esatto openfine ci chiede di specificare l'indirizzo mail quando si fa una richiesta scusate aspetto perché non mi ha non mi ha scusate devo rifarlo perché ho solo questo perché se lo faccio su tutte dopo non vediamo il risultato perché ci vuole troppo tempo face it must start ok allora rifacciamo più value vuol dire che lui prende come valore il valore che c'è nella stringa il risultato è spesso velo il risultato ma ora Ok. Ecco qua, lui mi importa tutti i metadati che sono collegati all'ISSN, quindi alla rivista, da Crossref, che come sapete è un'agenzia di rilascio del DOI, che serve a mantenere poi tutta la traccia delle citazioni. E voi dite, vabbè, ma io cosa me ne faccio di questa informazione? Gli do un altro comando e gli dico di fare un parsing. Ok, allora gli sto dicendo che il valore della cella deve essere il risultato del parsing, cioè della scansione di questa cella, e mi restituisce solamente come messaggio il campo Publisher. E vedete già nell'anteprima, io dico ok, già nell'anteprima, lui mi dà come risultato la nomenclatura corretta dell'editore di questa rivista. Ovviamente io l'ho fatto per un record solo, voi dovete pensarlo di farlo per, quanti erano? 600 erotti record. Questo vi aiuta, questo può essere fatto anche per il titolo, per esempio. Prima vi ho fatto vedere il titolo, il clustering, però io posso importare da works invece che da journals, o magari utilizzando il DOI, importare il titolo e avere il titolo univoco per ciascun articolo, e poi eliminare semplicemente i duplicati. È una breve demo, non so quanto siate riusciti a vederla da laggiù. Io non andrei oltre, vista l'ora, perché se no non stiamo nei tempi, però era solo per farvi capire molto molto velocemente come si può gestire un grande file di dati con questo programma. Per esempio si possono anche cambiare gli ordini delle parole all'interno delle stringhe, per cui, per esempio, se si vuole mettere prima il nome, poi il cognome, o piuttosto prima il cognome, poi il nome, e poi separarlo, è possibile farlo. Basta. Dopo questa... facile... Ci sono domande? Vi hai stesi? No. Allora, io penso che... Prima dicevo che questo non è un corso di formazione, in realtà in quest'ultima parte lo era, e probabilmente per fare queste cose e soprattutto per assicurarci di non essere analfabeti, la cosa migliore è il laboratorio, cioè quello di essere insieme in un'aula così attrezzata e poterlo fare insieme, così avere anche la fiducia, la confidenza che anche noi riusciamo, no? Non solo tu. Che poi magari ti emozioni nel far vedere davanti a tutte queste cose, perché sono... basta un piccolo errore... Sì, no, no, va bene, poi non è, diciamo, la visualizzazione non è molto facile. Riguardo la questione della facilità, è vero che, presentato così, cioè avrei potuto fare delle slide, però le slide non rendono l'idea, così almeno uno vede, poi si può pasticciare, per l'amor di Dio. Io l'ho visto all'opera, l'ho visto fatto questo lavoro su quantità grandi di dati, in cui appunto erano tutti così sporchi, diciamo così, no? Ed erano da pulire, soprattutto per quanto riguarda l'affiliazione di ogni autore, anche in un modo più sottile, a volte per unità operativa, per esempio. Quindi si possono fare veramente tante cose, che soprattutto negli, almeno io so, negli IRCS servono molto, e sono uno strumento di facilitazione sicuramente. Fatto vedere così, magari tu sei riuscito, noi non credo che riusciremmo a riprodurre. No, però... Ma se interpreto bene. Una cosa... Però possiamo anche fare un qualcosa, se è di vostro interesse approfondire strumenti come questo, in una modalità così, laboratoriale, magari, che ne so, il prossimo anno, o... Secondo me non va tanto bene l'online per queste cose, perché uno deve provare a vedere se nel suo computer riesce ugualmente, no? Penso, per avere fiducia che... Altrimenti è la solita storia che poi ci si sente impotenti e aumenta la distanza. Quello che invece voi... Noi vorremmo rafforzare è la prossimità, cioè far sentire che comunque ce la possiamo fare. Una cosa che in entrambi gli strumenti, sia per Refine che per Zotero, naturalmente, c'è molta documentazione online. Il problema non è trovare il modo per fare l'operazione, oppure, insomma, questi sono strumenti che poi, mettendoci le mani, ci lavori, per esempio, prima... La formula la puoi trovare e copiare, sì. Si trova veramente facilmente. Poi, tra l'altro, tra l'altro, io per fare il... Diciamo anche per preparare la demo, mi sono rivolto ad una lista di discussione su Google con una comunità internazionale che risponde subito. Veramente mi hanno aiutato tantissimo per fare i primi passi, allora, quando ho cominciato, eccetera. E... E ripeto, poi dipende sempre dalla complessità con cui uno poi tende ad utilizzarli, allora diventa sempre più difficile, sempre più complesso. E il problema non è tanto capirli, il problema è avere il tempo di lavorarci. Però è anche vero che lo stesso tempo che noi ci impieghiamo in, per esempio, per imparare a utilizzare OpenRefine e il tempo che impariamo per modificare e che utilizziamo per modificare sempre gli stessi Excel a mano, cioè cambia, perché il tempo che ci dobbiamo dedicare vuol dire tempo sottratto ad altre attività che non abbiamo mai il tempo di fare. Lo stesso vale per Zotero, il tempo che noi impieghiamo per mantenere costante, diciamo, e coerente il database, è il tempo che poi guadagniamo nel realizzare le bibliografie o, per esempio, nel non copiare le referenze scaricate da Scopus e Web of Science a mano in un altro database, per esempio. È chiaro che la curva di apprendimento poi a un certo punto diventa, come posso dire, logaritmica, no? Più hai bisogno di entrare in profondità nella modifica dei dati e più diventa, diciamo, difficile quello che devi imparare, perché si entra praticamente in un linguaggio di programmazione Java e nessuno di noi è un programmatore, non è il suo mestiere. Comunque, ecco, il messaggio era questo. Io so che in molte situazioni chi non conosce o non ha voglia di mettersi a usare questi strumenti alla fine butta via tutto e rifà. È molto frequente questa attività, non so se vi è capitato i consigli che vengono dati e rifacciamo tutto e a me piange il cuore di solito, perché significa non aver capito che è possibile realmente l'interoperabilità, quando si parla di interoperabilità è questo, no? Fare in modo che le macchine capiscano i dati e... Vabbè, quindi io finirei qui. Se ci sono domande fatele e soprattutto esprimete così il vostro interesse di approfondimento in modo lo troveremo, insomma. Ribadisco, io penso che sia più opportuno una presenza in modo che poi ognuno con le cose di cui ha bisogno le esperimenti e veda che ci riesce a fare. Ecco. Comunque anche le cose che voi avete fatto nei corsi anche per me più complessi come la stessa di fare. Quando ce la potete di registrare voi vi permette di andare a vedere è comunque già un po' so l'altro perché tu puoi dire questo è quello io non ve lo ricordo più però me lo vado a fare. Passo passo, sì, questo è vero, sì, sì. Sì, sì, no, grazie. Infatti anche questo corso sarà disponibile sulla registrazione sarà disponibile la prossima settimana, non mi sento di dire il giorno esatto, insomma, quando lo staff delle stelline lo renderà operativo sul canale ufficiale noi vi daremo comunicazione e quindi, sì, ecco, quello che volevamo fare era rendervi così disponibili degli spunti, delle indicazioni, degli strumenti per come, come dire, risparmiare tempo sapendo che tempo bisogna investirne prima, ecco, perché noi lo, è vero, lo diciamo sempre, no, che fa risparmiare, però come tutte le cose prima bisogna investire, per mettere a posto bene dei dati, pulirli e quindi averli, a quel punto sì, pronti per tanti output, perché effettivamente possono essere utilizzati per migliaia di cose, dalla gestione della bibliografia di un ricercatore all'import nel suo orchi, da un archivio istituzionale a un export in un altro archivio, a fare la bibliografia della relazione clinico-scientifica di un rep, cioè, moltissimi, ecco, alla fine, quando sono manutenuti bene. Non ho altro da dire? Volete dire qualcosa? Iscrivetevi al GIDIP, faccio il tesoriere anch'io, sì, l'associazione nostra, insomma, la conoscete, però, insomma, è piccola, ma grintosa, direi. Grazie, e arrivederci all'Assemblea, no? Abbiamo i corsi prima, sì, scusate, i corsi di... tra giugno e luglio, sì, l'Assemblea è importante, perché poi noi scadiamo. Siamo il direttivo uscente. Cosa? Siamo il direttivo uscente, sì, sì, sì. Siamo... Siamo... Siamo vecchi, io parlo per me, che ci sono i giovani che possono, perlomeno, insomma, io dico solo una cosa, come per me, che ero una bibliotecaria di campagna, è stata vitale questa associazione e spero che lo possa essere anche per altri, anche in questi tempi di trasformazione e penso che sia importante perché questo... se voi lanciate una... finisco con questo, se voi lanciate una ricerca in PubMed sul ruolo in evoluzione del bibliotecario biomedico, vedete quante cose vengono fuori, quindi quanti sono i campi e questo dei dati è veramente trendy, devo dire. Il data librarian che pulisce, che arricchisce, che trasforma i dati è veramente una cosa molto richiesta perché nessuno poi c'ha voglia di stare lì con queste pippe di cose, no? No, sì, sì. Però in realtà sono cose importanti perché significa generare cose solide, robuste, pulite non immondizia che si clona, insomma. Tutto qua. quindi anche un po' una funzione di advocacy della nostra professione, ecco, questo è last but not least, come si suol dire. bene, grazie. Grazie.